Cominciamo i lavori del convegno che sarà aperto dalla fanfara della brigata taurinense. Grazie a tutti. 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 non dare consapevolezza alle generazioni di ciò che le ha preceduto e renderle orfane e in qualche modo noi abbiamo appunto il dovere di non rendere orfano nessuno, nessun cittadino del nostro paese e lo possiamo fare se facciamo un'opera di trasmissione della memoria e alle generazioni che si succedono siamo in grado di dare piena conoscenza, cognizione e consapevolezza di ciò che le ha precedute perché avere consapevolezza di ciò che ti sta alle spalle è anche il modo più sicuro e più certo per capire il presente e individuare con maggiore chiarezza e determinazione il percorso futuro che devi intraprendere. La seconda ragione per cui credo sia giusto fare un'opera di memoria e di riflessione è che la memoria storica poi serve anche a illuminare l'attualità. Noi viviamo da 70 anni in un regime di pace, di libertà, di democrazia, viviamo in una società che è fondata su valori di tolleranza, di rispetto della dignità umana, di riconoscimento dei diritti inviolabili della persona e vivendo in questa condizione da un lungo periodo ci appare del tutto scontato e normale che sia così. Se alziamo lo sguardo al di là dei confini del nostro paese e guardiamo al mondo vediamo che tutto ciò è assai meno scontato che sono molte le aree del mondo nelle quali ancora i diritti di cui noi beneficiamo ogni giorno sono non riconosciuti, negati, oppressi. Viviamo da 70 anni in una condizione di pace ma se guardiamo al mondo non dappertutto questa condizione di pace oggi è riconosciuta, al contrario vi sono luoghi nei quali ai conflitti e ai contenziosi si pensa ancora di dare soluzione ricorrendo alle armi piuttosto che alla ragione e alla parola. Viviamo in una società che riconosce i diritti inalienabili della persona sulla base di regole di uguaglianza che sono sancite nella nostra Costituzione e tuttavia questo non ha impedito in questi 70 anni di conoscere forme di revisionismo storico, di negazionismo, così come forme di intolleranza o di xenofobia o di antisemitismo sono ricorrenti nella nostra società. Ricordo tutto questo per dire che riflettere sulla prima guerra mondiale, l'ultima grande guerra di terra che si sia conosciuta e riflettere su ciò che è accaduto in questi 100 anni ci deve portare anche a un impegno morale e politico a fare in modo che le tragedie, gli orrori, le sofferenze che si sono conosciute nel passato non abbiano più a ripetersi. Viviamo appunto in un continente che ha conosciuto il più lungo periodo di pace nella sua storia in questi 70 anni. Questo non ci deve però far dimenticare che in questi 70 anni anche in Europa ci sono stati momenti nei quali si sono conosciuti nuovamente gli orrori. Il 12 luglio tra qualche settimana noi celeberemo i vent'anni di Srebrenica e del bagno di sangue che per cinque anni ha insanguinato i Balcani dove si sono ripetuti orrori che dopo il bagno di sangue della prima e della seconda guerra mondiale pensavamo che l'Europa non avrebbe più conosciuto. Quindi opera di memoria intanto per rendere omaggio e onore a tutti coloro che sono caduti e sono caduti per l'indipendenza del Paese, per la sua unità, per la sua libertà. Opera di memoria per trasmettere alle generazioni che si succedono, consapevolezza di ciò che accadde e soprattutto impegno morale e politico a fare in modo che la difficile e sanguinosa acquisizione di una condizione di libertà, di pace e di democrazia non sia messa in discussione e quei diritti fondamentali che presiedono la nostra convivenza civile siano riconosciuti, rispettati e tutelati ogni giorno. E anche un impegno morale e politico è essere al fianco di quanti, laddove questi diritti vengono negati, si battono ogni giorno perché invece i diritti vengano riconosciuti. Quindi io penso per questo che gli incontri di questo tipo non hanno nulla di celebrativo o di commemorativo. Sono invece occasioni di rivisitazione della storia che ci consentono non solo di approfondire ciò che è accaduto ma anche di illuminare ciò che dobbiamo fare e ciò che può accadere. Grazie e buon lavoro a tutti. Prima di avviare i lavori e dare la parola al Presidente del Comitato delle Celebrazioni, Franco Marini, invito la fanfara a eseguire l'inno d'Italia. Grazie a tutti. 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 Presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario. Saluto il Signor Ministro, le autorità, gli amici presenti e sarò breve. così aiutiamo il quadro della nostra iniziativa qui a Torino. In questi giorni siamo impegnati un po' in tutta Italia e sottolineo questa centralità della memoria per tante cose, oltre per queste di cui stiamo discutendo anche per la politica e per la società italiana. Io proprio per restare ad onorare questa affermazione che ho fatto all'inizio debbo dire che risponderò velocissimamente a due domande più generali. poi ci sono degli storici importanti con noi che possono approfondire gli aspetti di quadro generale con più tempo. La prima di queste domande è cosa fu nella storia dell'uomo perché di questo si tratta la prima guerra mondiale. mondiale perché il mondo era l'Europa allora, gli altri continenti si scopriva, nell'Europa era presente, si combatteva, si scontravano per l'egemonia, in particolare per l'Africa e per l'Atre, era l'Europa. E coinvolse non solo i paesi europei ma i dominions di chiunque in giro che c'erano. La guerra andò anche sugli altri continenti. Secondo cosa ci insegna, perché io sono d'accordo con Fassino, perché in fondo qualcuno, specialmente tra i giovani, noi abbiamo fatto come comitato una convenzione con il Ministero della pubblica istruzione, tra le altre cose, e con Rai Storia, proprio per coinvolgere i giovani. Perché poi utilizzare e approfondire la memoria dei fatti, delle cose, riguarda direttamente loro, i giovani, su questo siamo molto impegnati, con le risorse non alte della pubblica finanza italiana di questo periodo. Altri paesi possono fare di più, ma a volte la sobrietà imposta anche dalle condizioni che il paese ha e che ci coinvolge tutti, ci aiuta anche a fare delle cose buone. Allora, cosa è stato? Mi riferisco ad alcune pubblicazioni, chiedendo scusa agli storici che sono qui, che scrivono anche loro, per fissare questi concetti che voglio sottolineare. La prima è, io proprio non ho dubbi, approfondendo queste cose con questo comitato che è fatto di storici professionali, storici importanti, come un gruppo di storici, poi ce ne sono tanti altri bravi, come dilettante della storici, come dilettante e aspirante, in tarda età ho recuperato un'aspirazione giovanile di quello che si è andato a iscrivere alla Università, caro professore, la Sapienza di Roma. Io andai lì per iscrivermi a storia e filosofia, mio padre, forte, intelligente, operaio della snia viscosa, quando poi sono andato a iscrivermi e mi ha detto, senti, pensaci bene, che qui poi ci sono le tue sorelle che devono studiare, insomma, iscriviti a giurisprudenza che forse aiuta di più per le cose e alla fine, io gli ho detto di no quando da una cittadina sono andato a Roma, fu arrivato lì e mi sono iscritto a giurisprudenza, pentito, no. Però voglio dirvi che questa passione per la storia ce l'ho, me la sono portata e l'ho coltivata tutta la vita, la sto coltivando ancora di più. Allora il punto qual è? È stata una rottura della storia del cammino umano, ma drammatica la grande guerra, perché poi si è trascinata automaticamente assieme la seconda. La seconda è il frutto di accordi e pace di Versailles fatta con determinazione, andando oltre perché lo scontro e il risentimento francese rispetto ai tedeschi alla guerra del 1870 e lo strappo dell'Alsazio e della Lorena era tale che non si poteva ragionare. Un paese che era all'avanguardia nello sviluppo tecnologico di tutta l'Europa. A Parigi nella grande esposizione del 1900 la Germania fece paura a tutti per l'esplosione della sua capacità industriale bellica. Perché non dimentichiamo mai, perché è giusto dire che anche sul settore bellico corre la ricerca, corre anche per la civiltà, corre anche per la medicina, corre anche per i trasporti, corre anche per tante cose. Però io aggiungo di mio, però stiamo attenti che quando i popoli cominciano a pensare che con il negoziato il conflitto di interessi non si risolve, allora la ricerca e lo sforzo tecnologico va tutto nella direzione della potenza militare. Il che è assolutamente normale la storia dell'uomo. Una rottura totale perché insomma dal 14 al 18 si consuma un rivolgimento sociale senza precedenti nella storia dell'umanità. Questo voglio affermare. Nelle fabbriche le donne prendono il posto degli uomini mandati a fronte, i giovani adibiti ai lavori militari sono pagati per la prima volta, in Italia in particolare poi con il nostro paese ancora largamente contadino, per la prima volta e i giovani quando vanno a lavorare non dipendono dai padri perché i lavori militari vengono pagati subito, si spezzano relazioni familiari, nasce un'inflazione doppia per Italia, Francia e Gran Bretagna. Nei paesi della triplice di Austria, Ungheria e Germania cinque volte si scatena l'inflazione e la Germania in particolare fu piegata alla fine non dalla sconfitta militare, questo dobbiamo ammetterlo perché resistetero. 600.000 morti per fame fu il paese che fu colpito di più perché fu bloccato e noi l'alleanza italiana e l'intesa ebbe l'intervento degli americani che risolse rapidamente questo problema per tutti. L'Italia in quel periodo, in quei tre anni nostri, mostrò una capacità di tenuta come paese meno forte degli altri, magari è un po' arretrato rispetto alla grande corsa dello sviluppo, mostrò molto una grande resistenza anche per le cose che ho richiamato, per il grande impegno delle donne e tutto il resto. Allora, dobbiamo avere questa consapevolezza, si deve capire perché anche quell'intervento del Papa recente, un Papa che è un pastore, guarda i poveri, guarda all'uguaglianza, al rispetto della persona, quando ha fatto quel cenno alla terza, io credo, insomma, non è superficiale. Poi ho pensato dentro di me, ma c'è, sì, il Papa è questa figura, ma l'elaborazione di molte delle cose che sostiene, che dice, c'è dietro i gesuiti, quindi che non sono mai superficiali. Quindi se noi guardiamo qui davanti i nostri responsabili militari, gridare al lupo prima non serve mai, i montanari come noi lo sanno, non è così, però essere consapevoli di un rapporto che si va consumando tra settori, aree del mondo e i problemi che sono aperti nel Mediterraneo e nel Medio Oriente e anche dai Balcani verso Est, come è capitato pure per la Prima Guerra Mondiale, sono problemi di una enormità forte e l'ottimismo qui non serve perché Nitti scrive in un suo diario che incontrò Salandra nel 15, credo, alla ripresa dei lavori parlamentari, no, però non erano smessi, settembre, ottobre, che gli disse i nostri ragazzi torneranno a casa all'inizio dell'inverno. Pazzia che toccò tutti, larghissimamente, toccò i dirigenti dei paesi in conflitto, chissà perché, perché avevano visto questo straordinario nel settore anche degli armamenti, sviluppo tecnologico, ma questo sviluppo lo avevano avuto tutti e aggravò lo scontro e lo allungò. Ecco, quindi, dobbiamo incentivare, io sento molto questo, lo sto facendo perché nelle regioni dove si è combattuto, dal Friuli a Trieste, dall'Adriatico all'Adamello, dal Tonale, fino a lì, nel Bresciano, lì c'è una grande attenzione perché ancora c'è il sentimento della drammaticità di quella fase della nostra vita, lunga, perché tre anni per noi, quattro per tutto, sono straordinariamente lunghi, però, lì sì, nel mezzogiorno, io sto facendo un lavoro di sollecitazione, anche un po' brusca con i colleghi, perché io ho fatto pure un po' politica prima di arrivare alla chiusura, questa cosa che mi piace, la faccio volentieri, dicendo ma com'è possibile al Consiglio regionale siciliano, voi avete avuto, sono leggermente incerto, se 70.000 o 60.000 caduti avete avuto, i fanti delle trincee, da dove venivano, perché qua su c'era l'industria e gli operai dell'industria servivano profondamente dentro le fabbriche, è vero che sono andate le donne, però dove si poteva si tenevano e qui avete avuto, e non fate niente, hanno fatto una leggina, ora la Campania e l'Abruzzo, non voglio essere irrispettoso, però hanno preso delle iniziative, perché è giusto così, l'unità d'Italia all'80% si fece lì, dopo il 61, lì, lì, da noi si diceva, io ricordo chi raccontava qualcosa, un volontario venuto dagli Stati Uniti al paesino del Gran Sasso e poi è andato volontario e ha salvato la vita, insomma gli è andata bene, che raccontava che lui stava con i Veneti e parlava dei Veneti come se parlasse degli americani o di altri così, quindi lì si è cementata in una sofferenza unica, la sofferenza della guerra di Trincea passa avanti a tutti, c'è un libro di un sottotenente milanese, Carlo Salsa, il fascismo lo fermò quel libro, è intitolato Trincea, dove c'è questa cosa terribile, proprio per la vita già in sé e per il tipo di guerra che si faceva, mi hanno dato sull'altopiano della Saga un libretto scritto lì da un alpino che stava lì così e tra l'altro ho letto c'era un sottotenente di una forte famiglia aquilana, non lo sapevo io, che insomma sotto le ultime rocce dell'ortigara c'è rimasto due giorni sotto l'acqua eccetera e poi con i reticolati davanti e non si potevano muovere e quindi fu ferito, lo portarono dietro. Quindi una guerra, c'è uno storico americano che dice che la cosa che più lo ha colpito di questa guerra è il fatto che i militari, i combattenti sono riusciti a sostenere la durezza e la desperazione di quella vita fatta lì sulle trincee con tutto quello che seguì. Questo è il punto. Una rottura perché nel 13 tutta l'Europa correva, correva l'arte, correva la ricerca, correva la medicina, correvano le invenzioni nuove sui trasporti e tutto il resto. Un altro storico ha scritto in libro che la guerra è stata l'apocalisse della modernità. Ha ragione, solo che la modernità poi, l'uomo è capace di non farla ridiscutere perché poi quando si fermano le contrapposizioni l'ambizione di questo che siamo noi ritorna avanti e la modernità ritorna, ritorna in tutte le direzioni anche con i rischi di conflitti che bisognerebbe ambire con le strutture internazionali a risolvere attraverso il negoziato. Questo resta il punto fondamentale. L'incertezza dei governi, ci sono delle cose inimmaginabili che all'ultimo momento dopo le cannonate contro i serbi degli austriaci, diciamo ai primissimi di agosto del 14 o gli ultimi giorni di luglio, Guglielmo II cercò di fermare la guerra dopo aver assicurato l'Austria che sarebbero intervenuti loro. C'è un bel lavoro di uno storico inglese dove ci sono 50 pagine che dicono erano anche parenti tra l'altro le case regnanti di allora quando l'esercito tedesco, il capo, il comandante generale, si ribellò perché stavano invadendo la Francia li ha fermati Guglielmo II. Quindi una incertezza e un automatismo nello scivolare verso il baratro che i governanti non sono riusciti a fermare. Questo è sempre un rischio che noi possiamo avere. Cosa fare? Mi fermo qua perché sennò lo sto prendendo. Ecco io credo che con i giovani dovremmo parlare. La risposta quale può essere? Noi che seguiamo e cerchiamo di attivare questo dibattito. C'è la parola d'ordine perché il problema non è celebrazione, il problema è il ricordo. Io insisto in particolare con i giovani, il problema del ricordo di questa tragedia. Ne ha avute tanti il cammino dell'uomo. Ma questa è stata la prima, la guerra industriale che ha coinvolto i paesi fino in fondo e con strumenti assolutamente nuovi. Noi abbiamo quindi avuto questa grande tragedia quando stavamo nel pieno di uno sviluppo industriale con i governi che non hanno saputo tenere. Uno che cerca di fermare l'invasione del Belgio e della Francia dopo aver accettato il cannoneggiamento degli austriaci dando le garanzie su Belgrado il capo di una grandissima nazione come quella non è pensabile eppure accadono queste cose. Quindi una serietà, una preparazione anche dei gruppi dirigenti che ci consentano almeno di tenere aperta la porta. Le istituzioni internazionali, qualcosa dopo quella guerra si sono cominciate a costituire. Qualcosa hanno ottenuto, debbono ottenere di più. L'Europa deve avere un ruolo che non ha questo rischio di queste parole del Papa e questa grande difficoltà del nostro est balcanico e del Mediterraneo e di quasi tutta l'Africa, si è allargato nell'Africa, eccetera. Noi per tenere questo dobbiamo avere un'Europa che abbia un ruolo. Questo dipende da noi. Certo l'Europa non sarà più il centro del mondo dopo quello che è accaduto con la prima guerra mondiale. Non è possibile. Ma l'Europa può avere per la sua forza economica, per la sua storia, per tutto il resto assieme politicamente. Io sono stato parlamentare a Strasburgo. Ho visto lì, stavo alla Commissione esteri. eravamo due che rispetto alla Turchia, rispetto a quelle aree lì, avevamo una sensibilità forte. Io ero un tedesco. Dopo un paio di mesi, due o tre mesi, ho scoperto che il tedesco era turco perché era uno dei giovani lavoratori, lì figli di una famiglia. L'ho scoperto una sera, perché non aveva nemmeno fisicamente l'aspetto del... Era più, insomma, sembrava un tedesco. Poi io il tedesco non lo conosco. Allora c'è questa possibilità, c'è, e l'Italia può avere un ruolo assieme all'Europa. Dobbiamo far fare dei passi politici. La politica sul piano della difesa, il Ministro è assolutamente sensibile su questi, perché ci conosciamo bene al Senato e tutto il resto. a me piace chiamarti ministro, questa cosa ministra, mi fa incavolare, è brutto. Ministro, questo è un ruolo, lo svolge una donna, benissimo, lo svolge una donna. Poi era Presidente della Commissione di Difesa, il Ministro Pinotti. Quindi, insomma, queste cose, lei sa, l'Europa deve camminare. Se non cammina, ci sfugge anche un ruolo, un ruolo politico nel mondo. Certo non cambieranno le cose, non torniamo dietro. Non possiamo andare a conquistare l'Asia, come si faceva allora, o l'Africa, o l'America. C'erano gli europei, si sparavano i francesi e gli inglesi in America, in Canada. Allora, insomma, ritengo e concludo che questo lavoro di coinvolgimento, perché c'è già, specialmente nel mezzogiorno, ho scoperto che nelle famiglie, a parte queste regioni dove c'è stata la guerra e c'è una sensibilità più larga, le famiglie hanno tutti, perché i combattenti con una popolazione metà di quella di ora, poco più della metà di quella di ora, i caduti in combattimento furono quasi il doppio di quelli della... chi non lo sa resta sorpreso, perché la seconda guerra fu un'altra cosa. Triplicò i morti, i caduti tra i civili e i militari, però c'erano queste cose. Vale la pena in un paese combattere e sostenere queste cose? Certamente sì, in Parlamento sì, perché su questi argomenti si tocca una superficialità a volte inaccettabile e quindi un paese ha difficoltà, ma questo è un punto fermo, perché poi si lega a tutto, si lega alla pace, si lega allo sviluppo industriale, si lega allo sviluppo economico e tutto il resto. O lasciamo da parte, poi quando abbiamo bisogno c'è un ombrello tenuto in piedi da un altro paese, finora con quel grande paese, gli Stati Uniti d'America, e noi stiamo lì. Questo non è giusto, è sbagliato, è sbagliato pure per chi ama la vita civile e basta. Quindi questo sforzo in quella direzione e lo sforzo di far capire ai giovani cos'è stata la nostra storia e quali problemi ci lascia davanti, perché molte cose, e chiudo veramente, sono accadute allora. Ce n'è una che dalla testa non mi va via, perché mi colpì quando la lesse la prima volta. Nel 16, quindi con una guerra non vinta da chi poi l'ha vinta, nel 16 i ministri degli esteri, francese e inglese, quello francese ricordo benissimo il nome, Picot, quello inglese la pronuncia, non è una parola così. Loro nel 16, uscito fuori dai documenti che ci sono, si erano già diviso. L'Iraq e la Siria, una ai francesi e l'altra assegnata, accadde nel 16, con le matite fatte, quando Lorenz, chiamiamolo così, questo inglese ufficiale, eccetera, ma anche andava sollecitando la rottura dei turchi, degli arabi contro i turchi, promettendo che poi le cose se le gestivano loro in quei paesi, per dire le radici dove arrivano. Ed è una cosa inimmaginabile. Ecco, giovani e un ruolo politico, vero, di assunzione di responsabilità dell'Europa, stanno al fondo di quelli di noi che lavorano adesso ad attivare questo dibattito. E poi la parola d'ordine, il motto che abbiamo in questa convenzione tra Comitato, quindi Presidenza del Consiglio, perché poi c'è lì un responsabile politico, che è il Sottosegretario Lotti, che segue un po' questa cosa come Presidenza. Noi abbiamo questo slogan che dice così, ricordare la guerra per amare di più la pace. Ed è questa un'affermazione che a me sembra giusta e sulla quale ci dobbiamo ispirare. Grazie. Grazie Presidente. Prima di dare la parola al Ministro Pinotti, che poi ha un altro impegno a Milano, prego, come d'accordo, il Professor Tragnello di aprire la relazione degli storici, che saranno brevi e sintetiche, poi ci lasceranno i loro interventi iscritti. Grazie. Grazie. Credo di dover dare una spiegazione a questo strano titolo che ho posto a questo mio intervento puramente introduttivo, quindi sarà molto sintetico e per punti che mi sembrano essenziali. Il titolo è L'inizio di una seconda guerra dei trent'anni, punto interrogativo. Il senso di questo titolo è facilmente intuibile. ha a che fare con il fatto che le radiose giornate di maggio non sono solo e forse non sono principalmente ormai più quelle del maggio 1915, ma sono quelle del maggio 1945 e mi pare che sia giusto ricordare in questa sede, in questo momento, di fronte a così altri rappresentanti del nostro mondo politico e militare, ai quali va il nostro assoluto rispetto e ammirazione, ricordare che l'8 maggio del 1945 è il giorno in cui finisce in Europa la seconda guerra mondiale. Ora, naturalmente guardando questi eventi con l'occhio di chi è abituato a praticare, per ragioni professionali, i documenti storici, viene spontaneo domandarsi ma quale rapporto c'è tra quel maggio là, del 1915, e quel maggio qua, del 1945? Tanto più questo vale per chi come me si è trovato nelle condizioni, ovviamente, di non aver vissuto le radiose giornate del 1915, ma di aver vissuto le radiose giornate del 1945. Che ricordo, lo confesso, ancora, con grande commozione. E fu, nonostante fosse un ragazzino, fu certamente la sensazione della fine di un incubo. Della fine di un incubo. Ora è giusto dire come molti storici dicono e come si trova, anche scritto in molti libri, ed è inutile dire che in questa ricorrenza i libri sulla guerra mondiale, della prima guerra mondiale, ma anche sulla seconda, si sono moltiplicati all'infinito. È giusto dire che la prima guerra mondiale apre una fase che si conclude solo con la seconda e che quindi è, diciamo, dall'inizio la guerra dei trent'anni. Ad una guerra dei trent'anni. Un cenno c'è stato anche nell'intervento dell'onorevole Marini che, certo, convalida questa immagine. Io credo, e questo è il senso di questo breve intervento, che ci siano elementi per discutere questa impostazione. Discutere non significa evidentemente non accettarla, ma capire il senso possibile di questa visione del periodo, diciamo così, delle grandi guerre mondiali. Per fare questo bisogna toccare, e lo farò in modo molto schematico, scusandomi anche per la rapidità e quindi per l'imprecisione inevitabilmente, con cui toccherò temi di grandissimo rilevo che non possono essere liquidati in poche battute. Dico, bisogna toccare, considerare alcuni punti, alcuni elementi che è bene ricordare riguardanti la prima, le radiose giornate, l'ingresso dell'Italia in guerra. Questi punti ho cercato di schematizzarli in cinque momenti che mi limito praticamente ad elencare. Anzitutto tener conto del fatto che la prima guerra mondiale rappresenta una novità, e qui l'intervento di chi mi ha preceduto è stato molto chiaro, un momento di discontinuità, come diciamo noi storici con parole forse troppo complicate, di non continuità rispetto al passato, anche e direi soprattutto come particolare specie di guerra. cambia la natura della guerra, non è soltanto un cambiamento di tipo tecnologico, naturalmente finitamente distruttivo, eccetera, eccetera. Una guerra che doveva essere di movimento, che diventa improvvisamente di posizione, che dura molto più di quanto nessuno era stato in grado di prevedere, ma una guerra che si carica di valenze, di significati ideologici e culturali. Le nazioni che entrano in guerra prima dell'Italia sono convinte, e di questo dobbiamo tener conto, se vogliamo anche capire le ragioni degli altri, di combattere per una loro particolare civiltà. è una guerra di civiltà, è una guerra che tende a contrapporre modelli di civiltà. Questo particolarmente nello scontro, ovviamente, tra Germania e la Francia, che ha i suoi riscontri, ma che tocca in pratica tutti i protagonisti, prima dell'ingresso dell'Italia nella guerra. Quindi questa forte componente ideologico-culturale della guerra, che implica un guardare al nemico con occhi diversi del passato, è un guardare al nemico come il nemico della propria civiltà, in cui sono profondamente coinvolti, e questo è il collegamento con l'oggetto del nostro incontro, anche le religioni e le chiese locali, cristiane. I cristiani entrano in questo discorso, sono coinvolti in questo discorso, non sono, diciamo così, osservatori esterni. A parte la voce del Papa, che si eleva al di sopra di queste divisioni, le chiese nazionali sono pienamente partecipi di questa congiuntura, che è una congiuntura morale e intellettuale, prima ancora di essere una congiuntura bellica e economica. Primo punto, quindi, la guerra si prospette da questo punto di vista, molto cammino è stato fatto dalla storiografia, si prospetta come scontro in cui c'è questa grande componente, e qualcuno ha parlato dell'inizio di una guerra civile europea. Cosa vuol dire civile in questo contesto? Non vuol dire, evidentemente, una guerra all'interno di un'unica istituzione statale, in un unico organismo statale, come normalmente si definiscono le guerre civili, ma è una guerra che si svolge all'interno di una supposta comune civiltà europea, ma che all'epoca viene lacerata da questo avanzare di concezioni diverse del modo di essere, del modo di convivere, dei valori che reggono la società e così via. Secondo punto, la particolarità dell'intervento italiano nella guerra, perché questo bisogna anche ben dirlo, che l'Italia interviene in guerra in condizioni molto particolari rispetto alle altre potenze già coinvolte nel conflitto. Non soltanto interviene in ritardo, diciamo così, un anno dopo l'inizio del conflitto, e questo bene lo sappiamo, ma interviene sulla base di obiettivi, lasciando tra l'altro un'alleanza, sia pure già molto barcolante, che esisteva prima della guerra e che la legava, sul piano internazionale, come ben sappiamo, agli imperi centrali, detta la triplice alleanza, passando e accettando invece di allearsi con gli occidentali e con la Russia, piccolo o particolare, con l'impero russo. Questi sono gli alleati dell'Italia nella guerra. Ora, questo ingresso italiano in guerra, perché dico che l'intervento italiano va considerato, diciamo, in un'ottica particolare? Perché, innanzitutto, avviene attraverso una molto lunga e conflittuale scontro tra neutralisti ed interventisti. Questo scontro è uno scontro che è destinato a segnare profondamente l'opinione pubblica del Paese. Nessun altro Paese europeo entra in guerra attraverso un conflitto interno di questa natura. Questo è il primo elemento che qualifica, in un certo senso, rende particolare l'intervento italiano, in cui vengono anche coinvolti i gruppi cattolici, come diranno i miei colleghi che conoscono molto bene, e molto meglio di me, questo argomento. Il secondo dato di fatto è che la guerra avviene attraverso un richiamo al risorgimento, l'immagine della guerra come la quarta guerra del risorgimento, dell'unità d'Italia, il compimento territoriale dell'unità d'Italia. Ma bisogna anche tenere conto, mi sembra, che guardando al risorgimento, in realtà si pensa il risorgimento in due sensi diversi, se non proprio per dire opposti, ma certo profondamente diversi. Uno è quello appunto che porta a pensare al compimento dell'unità territoriale, quindi la guerra per la conquista, l'assimilazione delle terre irredente, Trento e Trieste, ma l'altro è il risorgimento che pensa all'Italia come ad una grande Italia, ad una Italia potenza mondiale, di tipo mediterraneo, europeo, eccetera. L'immagine della grande Italia. E naturalmente questo porta immediatamente a pensare ad una politica internazionale che va ben oltre il compimento dell'unità, ben oltre l'acquisizione dei territori nazionali. Vuol dire imporre con la forza interessi italiani attraverso la guerra in una sfera e diciamo in una dimensione molto superiore alla presenza nazionale nel senso classico. Teniamo dunque conto di questi elementi quando ragioniamo sugli effetti prodotti dall'intervento italiano in guerra. Terzo punto, il fatto che la guerra, la prima, normalmente siamo portati giustamente a considerarla come un fatto unitario, 1915, anzi nel caso di quella combattuta a parte l'Italia, 1914-1918. Ma la guerra, dovremmo forse incominciare a pensare che la guerra è divisa in realtà in due grandi momenti, in due parti, perché il biennio 1917-1918 è un biennio di eventi, su cui non mi soffermo, che cambia completamente, provoca una totale, una radicale metamorfosi dello scenario bellico. Se non ci si concentra su questo biennio, 1917-1918, non si capisce la discontinuità tra il momento dell'inizio della guerra, nel 1914-1915, e la sua conclusione. È come se si girasse una chiavetta, se posso usare un'immagine molto volgare, che cambia però tutte le prospettive, perché il 1917, l'anno in cui entra in guerra, un partner, diciamo di non secondario rilievo, che si chiamano Stati Uniti d'America, che fino allora non erano in guerra, e il 1917 è l'anno in cui scoppia la duplice della rivoluzione in Russia e in cui nell'ottobre viene impantato, vince la partita, un regime sovietico, a base bolshevica, attraverso la trasformazione della guerra in rivoluzione. In Russia si compie grazie a Lenin, era un'operazione a cui altri in Europa avevano pensato, ma che nessuno era riuscito a realizzare, in Russia si realizza a quali costi, non lo dico, non è questo il punto. Voglio soltanto dire che si introducono elementi che cambiano le prospettive generali della guerra. In Italia il 1917 significa Caporetto, perché noi proclamiamo giustamente l'unità, la gloriosa unità raggiunta dal popolo italiano e dimostrata dal popolo italiano dalla guerra, ma questa unità però è effetto, direi, non totale, ma largamente dipendente dal momento del crollo del fronte a Caporetto. è la difesa sul piave che dà senso a questa unità. È il piave, infatti nell'immaginario collettivo il piave è il simbolo della guerra, ma non possiamo dimenticare che il piave è anche la conseguenza di una confitta che si traduce poi nella vittoria. Quindi Caporetto e piave Vittorio Veneto. Questo passaggio però non è indolore, è un passaggio che trasforma in modo di pensare di milioni di persone e di vittime anche di queste vecchie. Pensate alle popolazioni venete che si trovano a un certo punto in base dall'Austria e dai tedeschi che erano leati e così via. In questo contesto per esempio viene tolto da, non ha più possibilità di avere ascolto, non hanno più possibilità di essere ascoltati gli appelli alla pace di Veneto XV, il quale nell'agosto, nell'estate del XVII, lancia il suo messaggio che si fa appello ad una formula che se ci pensiamo, certo, doveva allora apparire assolutamente scandalosa perché aveva parlato di inutile strage. Queste parole sono presenti nel messaggio di Veneto, inutile strage, ma pensate a dire inutile strage ad una situazione in cui ci sono milioni di persone impegnate sui fronti in guerra. È un fatto dirompente, che può essere dirompente, ma che viene naturalmente dimenticato, cioè lasciato da parte, non viene nemmeno preso in considerazione e questo naturalmente apre una serie di altri possibili ragionamenti che sugli effetti di queste vicende, sui comportamenti poi reali, delle potenze, ma anche dei gruppi d'opinione, delle tendenze politiche, eccetera. Quarto punto, le contraddizioni della politica italiana alla conferenza della pace, perché noi giustamente, e siamo qui per questo, celebriamo, per quanto si possa celebrare, un evento bellico, ma ricordiamo con commozione questi giorni. Li ricordiamo perché, come è stato detto, comunque hanno segnato il destino poi del Paese per molto tempo, successivamente l'hanno segnato in sensi anche contrapposti sia chiaro, non hanno dato un indirizzo da lì, tutto è disceso linearmente e logicamente, ma non possiamo tuttavia tacere, e forse dovremmo anche dirlo più chiaramente nelle occasioni come questa, che l'Italia dimostra di essere, la classe dirigente italiana dimostra di essere assolutamente inadeguata a far fronte ai problemi del dopoguerra, perché arriva il dopoguerra avendo in mente un'Europa che i dirigenti dell'epoca credevano che fosse la stessa che era entrata in guerra, e molti di loro non si erano accorti che quei cinque, quattro anni di guerra avevano cambiato semplicemente l'Europa. E quindi quando questi rappresentanti dei governi italiani vanno a trattare da vincitori, vadate bene, al congresso di Parigi, si trovano a sostenere, sono dei pesci fuor d'acqua, dei pesci fuor d'acqua. Naturalmente lo sono anche perché pensano di essere una grande potenza rispetto all'Ighilterra, agli Stati Uniti e alla Francia, le potenze imperiali da ben più ampio che li guardano molto dall'alto in basso, qui ci sarebbe da fare altri discorsi, ma comunque questo è un altro elemento da considerare, cioè che in effetti l'Italia finisce la guerra tra i vincitori, ma che molti pensano che sia stato quasi come se fosse stata vinta, come se gli eroici sforzi del popolo italiano fossero stati vanificati, la vittoria mutilata, formula sbagliatissima perché in realtà Trento e Trieste erano stati acquisiti, l'Italia faceva parte del gruppo dei grandi stati che decidevano i destini della pace, ma qualche volta succede, e in Italia succede abbastanza spesso, che il senso della sconfitta prevale sul fatto che in realtà si è vinto. Non voglio generalizzare, ma credo che questo possa essere una chiave di lettura della storia italiana, che gli italiani si considerano sconfitti anche quando hanno vinto, e comunque non riescono a tradurre realisticamente, perché è il momento della vittoria in cui viene fuori il livello di un accetto di una classe politica, perché è lì che si dimostra quant'è il realismo, la capacità di capire che cosa è possibile e che cosa è impossibile, non entro nei particolari. Comunque questo è il quarto punto su cui richiamo la vostra attenzione. Il quinto punto che tocca più direttamente il tema è ma allora questo punto è legittimo o è illegittimo dal punto di vista storiografico, poi naturalmente ognuno ha diritto di farsi l'immagine della storia che preferisce. Io ho insegnato e ancora insegno parzialmente storie per tanti anni, ma non ho mai avuto la pretesa di dettare ai miei allievi, e tantomeno in questa sede in cui non ci sono allievi, il senso reale della storia. La storia non ha un senso reale, ciascuno gli dà il senso che richiede di dargli, quello che è in grado in base alle proprie culture, alle proprie preferenze, ai propri sentimenti, se voglia. Ma resta però il problema. È possibile pensare, è giusto dire che la prima guerra mondiale fu la generatrice della seconda e che quindi si possono unificare le due guerre sotto l'unica formula di guerra dei trent'anni? Ora, questo naturalmente è un problema di primissimo ordine, su cui per concludere direi solo due battute. che se guardiamo all'integrità di questo periodo, di questi trent'anni, ma qualcuno dice che in realtà, attenzione, la fine di questo periodo non è la fine della seconda guerra mondiale, ma è la fine della divisione dell'Europa in due blocchi. E quindi, in questo caso, allora potremmo dire che la prima guerra mondiale gli effetti si avvertono fino alla fine degli anni Ottanta del nostro secolo, altro tipo di periodizzazione che ha una sua legittimità. Perché, oltretutto, questo rimette in discussione e chiude realmente quel conflitto di civiltà su cui era iniziata la prima guerra mondiale. Ma ammettiamo pure che si possa dire che ci siano elementi oggettivi, che si possano, direi, quasi controllare una continuità tra la prima e la seconda guerra mondiale. Però non possiamo, tuttavia, assolutamente, non dobbiamo correre il rischio allora di mettere tra parentesi tra parentesi gli anni che vanno dal 1918 e 1939. E no, qui non ci sto più. Perché se non guardiamo lì dentro che cosa è successo non tanto nella guerra, ma tra il 18 e il 39 e lo guardiamo con occhio europeo e non possiamo permetterci l'uso di limitarci al fondo al limitato territorio la limitata dimensione della nostra pur amata e giustamente amata patria, se guardiamo lì dentro vediamo che in quegli anni si preparano davvero le condizioni per cui una seconda guerra si potrà manifestare. Perché, attenzione, il rischio di considerare la seconda guerra mondiale come la continuazione della prima consiste e lo sottolineo nel dar ragione a quelle forze che hanno sostenuto che la seconda guerra mondiale è la conseguenza degli errori indiscutibili e delle prepotenze indiscutibili commessi dai vincitori della prima guerra mondiale. e sapete chi ha per primo enunciato la formula della guerra dei trent'anni in Europa? Un certo signore che si chiamava Rosenberg cioè uno dei massimi teorici del nazionalsocialismo e d'altra parte questo corrisponde ad una rappresentazione nazionalsocialistica per cui in realtà era inevitabile che la Germania dopo un trattamento veramente umiliante e ingiustificato oltretutto che era stato fatto dopo la prima guerra mondiale allora diventa giusto pensare che avesse diritto di rivalersi ma non è così non è così perché c'erano stati altri e decisivi passaggi intermedi questo però non riguarda più il nostro convegno riguarda un futuro convegno che magari farà anche la fondazione una fondazione Donat-Caten sulla pace allora non sulla guerra sugli effetti della pace e sulla possibilità di realizzare una pace stabile anche dopo la prima guerra mondiale insomma finisco dicendo non è teoricamente non si può escludere dire in termini teorici che la seconda fosse la conseguenza della prima e soprattutto che non fosse raggiungibile un equilibrio di pace anche dopo la prima guerra mondiale grazie grazie al professor Tragnello e anticipiamo l'intervento del ministro della difesa Pinotti che ha un impegno a Milano e la ringraziamo ancora per essere qui in attesa poi di dare la parola ai nostri tre storici che entreranno nel dibattito più vivo fra interventismo neutralismo e in particolare sul mondo cattolico grazie ancora al ministro Pinotti che in questo momento svolge un ruolo difficile e complesso e lo svolge a mio parere molto bene la parola al ministro grazie sì mi scuso dovrò andare via dopo questo intervento però per me era importante essere qui questa mattina era importante per il tema trattato era importante perché Claudio Nonacateng è una persona che conosco che stimo per cui provo affetto e perché penso alla figura di suo padre con ammirazione come una persona che ha svolto con grande passione politica con grande capacità e competenza e con la forza davvero di cambiamento di trasformazione vari ruoli insomma di ministro e di personalità politica e quindi mi faceva piacere esserci anche per questo motivo oltre che per il tema trattato e ringrazio anche le autorità civili militari ma anche la fanfara degli alpini adesso ci ha lasciato però averla qui questa mattina ci fa precedere in qualche modo quello che avverrà e sentiremo come per tutta la giornata all'Aquila al 17 dove ci sarà la festa degli alpini e dove ci sarà Franco Marini e io andrò andrò perché anche diciamola anche questa grande passione questa grande determinazione va va sostenuta con con la presenza del ministro e con il ringraziamento per quello che hanno fatto e che continuano a fare e dicevo che questo è un tema importante io non mi addentro nelle ricostruzioni storiche molto meglio di me lo fanno gli storici ho sentito una relazione assolutamente interessante e Franco Marini diciamo mi ha parlato anche dal suo punto di vista di presidente di tutte le celebrazioni della commissione che cura tutte le celebrazioni per il centenario mettendo in evidenza come quegli eventi i più salienti siano stati messi al centro di una serie di iniziative proprio perché se ne potesse fare memoria ma questo fatto il lavoro che sta facendo la commissione per il centenario il lavoro che sta facendo la difesa che ovviamente è una parte fondamentale di quello che viene fatto il centenario dai sacrari a tutto quello che è ancora il patrimonio storico che abbiamo oltre che ovviamente le storie degli uomini che morirono e che combatterono vedono al centro le nostre forze armate in tutte queste celebrazioni anche nel pensiero del come farlo ma dicevo questo è quello che ci serve e ci è servito a organizzare che cosa? Un lavoro che guarda soprattutto a come trasmettere la memoria che è un po' anche il lavoro che pensate di fare qua oggi perché è fondamentale che ci sia una memoria di quanto è avvenuto non esiste né una civiltà né una nazione né un paese che possa guardare avanti se non ricorda le proprie radici e allora aver dedicato molta parte di queste celebrazioni anche ai giovani alle scuole con l'idea di trasmettere quello che è avvenuto ragionarci su far sì che quelle storie terribili di uomini che combattevano di donne che cominciavano a lavorare che dovevano gestire la tragedia della lontananza però dentro diciamo un atti di eroismo poi dentro invece situazioni di sofferenza potessero fare ragionare anche con delle vicende diciamo che riguardano il vissuto concreto di persone i ragazzi di oggi le ragazze di oggi per capire che cosa è stato cos'era l'Italia di ieri e come possono guardare l'Italia di domani c'è un film che è stato prodotto all'interno delle celebrazioni a cui di nuovo la difesa ha dato ovviamente un contributo e Franco Marini lo ha seguito con attenzione che si intitola Fango e Gloria e se avete occasione io vi invito a vederlo perché è un film che mette insieme molti documentari dell'Istituto Luce che riguardano proprio immagini straordinarie diciamo di quell'epoca di molte delle cose citate dallo storico quindi sia dalle immagini delle trincee ma anche per esempio delle fabbriche delle trasformazioni del lavoro del ruolo delle donne quindi sia della società sia ovviamente molti della guerra ma lo fa immaginando una storia di tre ragazzi due amici e una ragazza che appunto cominciano a discutere discutono di quello che sta avvenendo dell'interventismo del neutralismo il papà di un ragazzo è appunto un socialista quindi diciamo cerca di portare avanti le idee del socialismo quindi c'è dentro una storia che è anche una storia d'amore una storia di amicizia che segue il filone di tutto quello che avviene fino ad arrivare diciamo al milite gnoto uno di questi tre viene individuato come diciamo il ragazzo che poi è la bara che arriva e che percorre tutta l'Italia in quel momento di commozione collettiva e di riconoscimento diciamo e di tributo che tutta l'Italia ha dato al sacrificio dei nostri militari e colorano i documentari per fare in modo che sembri davvero tutto un film io l'ho trovato straordinario infatti io ho una figlia di terza media che stava con cui abbiamo ogni tanto riesco a fare anche questo con cui abbiamo ripassato quando doveva essere interrogata la prima guerra mondiale e ho voluto vedere insieme a lei questo film proprio perché mi è sembrato perché ovviamente alla fine lei diceva ma perché è morto perché era il fidanzato tra l'altro della ragazza proprio lui e quindi vabbè c'è stato l'immedesimazione anche nella vicenda sentimentale ma è stato un modo con quell'immedesimazione di seguire con molta più attenzione invece tutta la parte documentale che è la parte più importante del film e è stata un'occasione per discutere di quello che è avvenuto di capire che cosa era avvenuto ve lo racconto perché ecco è un po' lo spirito con cui stiamo cercando di celebrare questi cent'anni guardare che cosa è successo riflettere ragionare piangere anche ripensare ma guardando poi avanti che cosa quello significa per l'Italia del futuro dentro a questo ragionamento è poi uno anche dei temi delle relazioni che è una parte è stata una parte importante anche appunto per il mondo cattolico è stato citato nell'intervento da un lato un punto che per i cattolici è sempre difficile sempre da gestire che è quello del tema la guerra la morte la violenza l'uso della forza e diciamo la cultura dell'amore la cultura della fratellanza la cultura del Vangelo con appunto il tema dell'inutile strage o della guerra giusta e non è mai non è neanche oggi un tema semplice per i cattolici il ragionamento sull'uso della forza sul conflitto neanche oggi quindi è un tema che dobbiamo a cui dobbiamo guardare con rispetto per il travaglio i pensieri di allora e su cui dobbiamo ragionare diciamo anche anche per l'oggi ve lo dico perché personalmente ho vissuto questo travaglio nel senso che io sono cattolica vengo dall'esperienza del volontariato dall'esperienza degli scout e all'inizio per me è stato complicato confrontarmi con i temi della difesa in commissione difesa alle primissime esperienze e ringrazio Franco Marini perché io lo considero oltre che un amico un maestro nel senso che i suoi insegnamenti mi sono stati utili però all'inizio quando si votava su un sistema d'arma magari particolarmente invasivo beh io avevo mi domandavo ma è proprio giusto perché dobbiamo acquistare un missile perché dobbiamo acquistare un aereo caccia bombardiere che potrebbe che poi può uccidere che poi può diciamo può essere un elemento che provoca che provoca morti questa cosa per me all'inizio è stata molto difficile tanto che io avevo immaginato di lasciar perdere di andare in un'altra commissione magari vado in affari sociali un po' più oppure nella scuola un po' più ho un po' meno conflitto non è che tutte le volte mi trovo a dover gestire questa domanda tant'è però dicevo però se come partito io vengo dall'esperienza dei DS vogliamo essere un partito che governa io questo tema lo devo affrontare è un tema dello Stato devo farmi un'opinione non è che posso mettere la testa sotto la sabbia e dire ci penseranno altri un po' nella tradizione della sinistra è sempre stato così si andava tutti in commissione esteri ma nessuno in commissione difesa come se in realtà oggi la difesa non fosse però questa cosa ad un certo punto poi c'è stato un momento per me molto importante che ho raccontato anche in alcune interviste ed è stato l'incontro con Michelle Bachelet allora era ministro della difesa oggi sapete per la seconda volta presidente del Cile ed era venuta in commissione lei era una donna insomma con un padre generale però che aveva diciamo è stato a fianco di Allende quindi morto torturato nelle prigioni del Cile dopo Pinochet quindi aveva una storia di donna e di sinistra francamente non so se fosse cattolico o no però aveva un po' questa connotazione quindi lei è venuta a parlare dell'ONU tant'è io avevo questa domanda nel mio cuore quindi alla fine della sua relazione ha detto se c'erano domande io non ne avevo una sull'ONU ma avevo una domanda invece da farle che era quella di dire ma lei che è una donna e che è di sinistra ce la fa a chiedere i soldi per il bilancio della difesa cioè che questa cosa le dà una difficoltà e lei mi ha risposto io sono stata ministro della salute prima di questo incarico e anzi invidio molto il ministro della salute attuale perché il presidente Frey ha messo molti soldi sui progetti per la salute però e quando ero ministro della salute chiedevo i soldi per i miei progetti ma ora per la difesa li chiedo con ancora maggior convinzione perché la difesa è un punto centrale dello Stato è uno dei fondamenti io ho ragionato molto su quella frase e da lì diciamo quello è un punto centrale per cui non sono andata in commissione affari sociali sono rimasta in commissione difesa poi è vero ho fatto la presidente e adesso sono arrivata ad essere ministro e arrivo a dire che io da cattolica e penso che possa essere una diciamo una soluzione che è stata trovata anche in quel bellissimo dibattito che è stato fatto quando è stata scritta la Costituzione nell'articolo 11 perché laddove io dico l'Italia ripudia la guerra io mi ci riconosco perché nella guerra io metto l'elemento di aggressività metto l'elemento in cui diciamo per volontà di potenza vado contro gli altri e quindi provoco distruzioni e morti inutili le inutili stragi ma nello stesso tempo io so è stato citato Sebrenica ma potremmo citare molte altre cose che succedono oggi nel mondo che purtroppo il mondo non è buono purtroppo non tutti diciamo scelgono di amare gli altri e mai come oggi è evidente purtroppo che i conflitti si stanno aumentando stanno diventando diversi stanno diventando più subdoli mettendo insieme terrorismo e diciamo guerra tradizionale pensate alla novità del califato che è una minaccia subdola ma inquietante dove l'idea dell'avere una potenza su un territorio un predominio di territorio si connette però con l'idea di poter spargere terroristi in tutti i paesi per provocare stragi per provocare morti quindi di fronte a queste cose di fronte a Boko Haram che uccide ecco di fronte a tutto questo io so che l'uso della forza è necessario è necessario a volte per separare i contendenti come è stato in Libano è necessario a volte per stabilizzare un territorio come è stato in Afghanistan è stato necessario per pacificare i Balcani ma certo ecco l'uso della forza deve essere legittimato legittimato e come dice la nostra Costituzione spesso i pacifisti diciamo io mi considero pacifista nel senso che io amo la pace ma penso che l'uso della forza sia invece da utilizzare da parte dello Stato ma quelli che diciamo si considerano i pacifisti integrali diciamo dicono non rispettate l'articolo 11 se facciamo una missione internazionale perché l'Italia ripudia la guerra o fino a quando è scritto così l'articolo 11 va letto tutto tutto e nella seconda parte dice in quali condizioni l'Italia può utilizzare la forza allora io immagino di fronte in un modo diverso immagino che anche allora ci siano stati dissidi e pensieri da parte dei cattolici un po' simili a quelli che oggi vi sto descrivendo ma tornando diciamo all'Italia all'Europa al senso di fare memoria io penso senz'altro che sia fondamentale che noi agiamo sempre di più anche sul tema della difesa delle forze armate verso un'Europa che diventa 100 sappiamo però molto realisticamente che oggi quando diciamo ci vuole l'esercito europeo diciamo un bel ideale ma non abbiamo fino ad oggi messo in campo normativamente gli strumenti che ci consentono di fare a meno delle difese nazionali per avere solo una difesa europea quindi diciamo un obiettivo ma sul quale poi chi lo dice anche oggi che io condivido come Juncker poi bisogna sapere che bisogna avere la forza politica di fare degli strumenti che questa cosa la rendono effettiva però l'Italia che crede a questo obiettivo intanto anche nella sua trasformazione che sta facendo con il libro bianco con la sua trasformazione della difesa si è posta nell'ottica di spingere il più possibile nella propria trasformazione per essere in grado di integrarsi nel momento in cui davvero si decida di avere forze armate europee di avere la capacità di difendersi a livello europeo e quindi le trasformazioni le modalità l'interoperabilità il concetto di interforze come pensiamo le missioni ma soprattutto anche come cerchiamo di evitare duplicazioni e già ad oggi per quanto è possibile facciamo accordi con altri paesi per avere con la Francia una brigata comune per avere con molti paesi europei il trasporto aereo in comune per avere con la marina delle integrazioni con altre marine sono in un'ottica diciamo in cui noi immaginiamo di dover spingere e siamo fra i più forti i sostenitori di questo in Europa così come stiamo cercando e questa è un'azione che il governo Renzi sta facendo con molta determinazione posso assicurarvelo perché diciamo ho assistito direttamente al vertice del Galles come da un lato e penso che sia importante per l'Italia ed è anche questa una parte che ritrovate se siete curiosi sul libro bianco della difesa che è sul sito della difesa quindi è un documento aperto e tutti possono leggere c'è il fatto che l'Italia dà molto per la sicurezza non solo per la propria ma anche per la sicurezza internazionale pensate anche in termini di sangue abbiamo lasciato 54 uomini in Afghanistan quindi dà molto è sempre stata responsabile si è impegnata anche a volte in territori molto distanti per molto tempo come in Afghanistan dove siamo ancora nel libro bianco si dice che questa parte è una parte che l'Italia certamente farà sempre ma che oggi i rischi che si stanno manifestando nel Mediterraneo ci portano a dire che è soprattutto diciamo davanti a noi che noi dobbiamo agire soprattutto davanti a noi e come però noi siamo stati solidali nei confronti dei problemi di altri lo siamo stati anche rispetto al tema dell'Ucraina e della Russia perché noi abbiamo dato una setta aereo per controllare il cielo dei paesi baltici però chiediamo altrettanto visto che noi abbiamo sempre fatto la nostra parte che nel momento in cui i rischi sono più evidenti per noi vogliamo non essere lasciati soli ed ecco il motivo per cui dalla Nato al vertice del Galles all'Europa noi rispetto a questi rischi che si stanno sviluppando non solo certamente la Libia diciamo è un epicentro perché è fuori controllo ma voi sapete che è un po' tutta l'Africa che sta vivendo una situazione di grande difficoltà e quindi con molte persone che scappano che scappano dalla paura di morire dall'aver visto assassinati i loro cari e che quindi si muovono ecco da questo punto di vista non può essere un problema che gestisce solo l'Italia non è un'immigrazione economica è un altro tipo di esodo un altro tipo di esigenza che nasce in una situazione complessa in cui noi dobbiamo immaginare risposte a breve termine non possiamo far morire centinaia di persone davanti a noi l'Europa l'Europa della civiltà questo non lo può consentire ma sappiamo che non è la soluzione il soccorso il soccorso in mare lo dobbiamo fare e lo facciamo con grande capacità qui ringrazio in particolare la Marina che su questa è impegnata da tempo ma certamente noi sappiamo che non possiamo neanche accettare che dei criminali sfruttino la disperazione di queste persone per arricchimenti incredibili e tra l'altro facendo fare dei viaggi che sono degni degli schiavisti dei tempi di amistà non so se vi ricordate quel film chiudendo a chiave nelle stive le persone che non hanno pagato abbastanza biglietto per essere sul ponte dell'imbarcazione nello stesso tempo sappiamo che dobbiamo presto trovare una soluzione per quello che riguarda la Libia perché questo è un altro problema senza la soluzione del quale non possiamo gestire diciamo non si può fermare questo fluo e poi c'è un tema complessivo che dicevo un tema dell'Africa che è anche più a lunga scadenza come soluzione ma rispetto a tutte queste cose quello che oggi vuole fare l'Italia non è restringersi in confini più stretti però è dire dentro a questi problemi prendendoci il nostro pezzo di responsabilità noi sulla Libia abbiamo dato la disponibilità ad avere la leadership della missione quello che deciderà l'Europa lo stiamo discutendo insieme a loro però certamente le ipotesi partono dalla programmazione delle nostre forze armate perché da tempo ragioniamo con questo fenomeno poi vedremo quali saranno le caratteristiche che cosa dovremo fare a volte nel dibattito italiano ci si concentra se bisogna usare i droni o se bisogna usare queste cose io nella mia esperienza so che le forze armate sono molto brave quando diamo un obiettivo sanno tecnicamente come si devono fare le cose non credo che sia una discussione che si debba fare o sui giornali o che deve fare la politica tantomeno quando si parla diciamo di piani militari è sempre bene non svelarli prima nelle abitudini di come si sono sempre comportati chi si occupa di difesa diciamo non è un buon modo diciamo far sapere prima come intendi muoverti ma a parte questo io dico l'Italia su questo la propria parte la vuole fare anche da protagonista lo abbiamo fatto in Libano ovviamente ci sentiamo di poterlo fare per la Libia ma sappiamo ecco in questo senso prendendoci il nostro pezzo di responsabilità vogliamo anche come abbiamo sempre dato la solidarietà degli altri paesi grazie ringraziamo il ministro che ci ha portato alla realtà dell'oggi e ai gravi problemi che ci troviamo di fronte e proseguiamo il nostro convegno con l'intervento dello storico dell'università di Roma Malgeri che entrerà nel merito del dibattito fra neutralisti e interventisti la parola a Malgeri e ricordo a tutti che la brigata taurinense è ancora qui con noi e quindi alla fine compirà ancora un intervento facendo di sentire la leggendaria musica del Piave la parola a Francesco Malgeri nel quadro di una analisi sulle posizioni del mondo cattolico italiano di fronte alla prima guerra mondiale penso che non possiamo non partire in primo luogo da quello che è stato l'atteggiamento dell'episcopato dell'episcopato italiano in questo contesto siamo di fronte a posizioni certamente non uniformi in un studio di parecchi anni fa Alberto Monticone ha individuato tre elementi che in quel momento condizionarono i vescovi cattolici innanzitutto l'atteggiamento del pontefice i suoi appelli alla pace in secondo luogo il problema della neutralità italiana e infine la posizione dei cattolici di fronte alla guerra nelle diverse realtà diocesane ecco soprattutto nel periodo che precede l'intervento italiano in guerra in particolare nei primi mesi del 15 i vescovi interpretano la guerra come una sorta di castigo divino addebitabile alle colpe degli uomini alle colpe dei governanti che si erano allontanati dalla chiesa che si erano allontanati dai valori della fede e di fronte alla tragedia che si stava consumando in Europa l'episcopato l'episcopato italiano chiede ai fedeli penitenza preghiera auspica il ritorno a dio insomma una sorta di sottofondo comune possiamo dire anima i vescovi che tuttavia di fronte alla questione dell'intervento italiano poi esprimono anche posizioni e sfumature diverse con un'articolazione che potremmo dire tocca un po' a tutte le gamme la diversa complessità dell'atteggiamento di fronte alla guerra quindi si va da un neutralismo e pacifismo convinto ma anche ad atteggiamenti più prudenti moderati e si arriva sino a forme di patriottismo favorevole all'intervento italiano e a sostegno delle aspirazioni nazionali ecco si tratta di un quadro che si riflette poi sugli atteggiamenti assunti dalle varie componenti del cattolicesimo dove rintracciamo in primo luogo la presenza di una generale diffusa ostilità alla guerra che matura però non tanto negli ambiti del cattolicesimo militante quanto in un contesto sociale sensibile ai valori religiosi e in questo quadro occorre cogliere quindi le posizioni e gli orientamenti non tanto dei vertici della chiesa e del movimento cattolico ufficiale nelle sue varie articolazioni ma una realtà più nascosta di quel mondo rurale cattolico che ruotava attorno alle parrocchie che si nutriva di una religiosità popolare ispirata ai valori della pace e della fratellanza ecco tuttavia questo pacifismo diffuso nella realtà sociale del paese e che è presente in un'ampia fascia di mondo cattolico come confermano del resto le relazioni dei prefetti le carte della pubblica sicurezza e numerose testimonianze ecco questo pacifismo non riuscì a diventare movimento non riuscì a rendere incisiva l'azione delle correnti cattoliche contrarie alla guerra perché in realtà questo sentimento pacifista mancò la capacità di realizzare una mobilitazione in grado di incidere nel contesto nazionale si può aggiungere anche che non fu estraneo il timore che trasformandosi in agitazione di piazza la protesta dei cattolici potesse appiattirsi sulle posizioni dei socialisti con il rischio di venire in qualche modo coinvolti catturati in una prospettiva rivoluzionaria dalla quale i cattolici intendevano rimanere strani ecco il neutralismo cattolico si nutria anche di altre motivazioni abbiamo posizioni decisamente contrarie alla guerra nelle quali si riconoscono gli eredi dell'intransigentismo cattolico in prima fila un organo come l'unità cattolica di Firenze che interpretò la guerra come flaggello di Dio e che giudicava l'interventismo espressione di quel disordine sociale che era stato provocato dal liberalismo e al quale si addebitavano tutti i mali che avevano sconvolto la società moderna dietro la guerra si individua un nemico della chiesa la massoneria ma si teme anche per la sorte dell'Austria vista ancora come baluardo della cristianità in Europa ecco ciò non toglie che al momento dell'ingresso in guerra dell'Italia anche l'unità cattolica auspicò la concordia scrivendo questi quanti sono italiani facciano il loro dovere e i primi a dare l'esempio siano i cattolici ben diverso è il neutralismo che matura in seno a quelle componenti del movimento cattolico che operava nelle campagne a contatto con i problemi e le rivendicazioni del mondo contadino come è noto il leader di questo movimento Guido Miglioli che fu eletto deputato nel 13 spese gran parte delle sue battaglie parlamentari e sociali opponendosi alla guerra e all'intervento italiano al motto no guerra ma terra ma questo neutralismo si nutria anche di motivazioni politiche secondo Miglioli la guerra rischiava di ampliare il potere della borghesia la quale stringendo alleanza con le irrequiete componenti del nazionalismo favoriva la creazione di una sorta di blocco antipopolare e reazionario e conservatore e diciamo proprio il mondo contadino che più delle altre categorie sociali pagava con il sangue il costo della inutile strage avrebbe rappresentato secondo Miglioli la grande forza politica del dopoguerra e profetizzava una sorta di palingenesi politica e sociale ebbe ad affermare il proletariato rurale entrerà la prima volta compatto e cosciente libero e forte strappato col dolore allo stato di soggezione civile e fatto signore del suo diritto intervenendo intravedendo nell'ora della pace il vittorioso avvento sociale del quinto stato insomma siamo di fronte ad un'analisi carica certamente di tensione sociale ma anche sorretta dal vagheggiamento utopico potremmo dire di un mondo nuovo che doveva lasciarsi alle spalle i detriti del passato e portare al crollo dell'egemonia borghese liberale in Europa alla rovina delle vecchie dinastie sostenute dal moderatismo liberale dalle caste militari e finanziarie lasciando spazio a forze nuove immuni dal passato di guerra diceva Miglioli che anzi il passato hanno visto in contrasto profondo con le loro aspirazioni di principio e di fede ecco a queste posizioni contrarie alla guerra si contrappose la presenza di un variegato fronte interventista con diverse e a volte divergenti motivazioni gli epigoni della tradizione democratico-cristiana aderenti in gran parte alla lega democratico-cristiana di Giuseppe Donati Vaina De Pava ed Eligio Cacciaguerra si collocarono accanto potremmo dire al filone interventista democratico di Salvemini e di Bissolati in difesa delle nazionalità oppresse dall'autoritarismo e dal militarismo degli imperi centrali e con evidenti richiami al risorgimento nazionale come ha sottolineato Pietro Scoppola non fu piccolo merito quello di aver saputo proporre di fronte ad un mondo cattolico prevalentemente passivo e strano ai problemi internazionali una linea di politica estera armonica e coerente nella quale le tradizioni risorgimentali si fondevano con certe aspirazioni di rinnovamento sociale della prima democrazia cristiana è un'interpretazione della guerra che contagiò anche figure di primo piano della cultura cattolica di quegli anni penso ad un Giovanni Semeria convinto assertore dell'esigenza di sfatare il pregiudizio della incompatibilità tra patriottismo e cattolicesimo e della necessità di rispondere agli imperi centrali che violavano i diritti dei popoli e Tommaso Gallarati Scotti tuttavia in un'intensa testimonianza ha ricordato che quando Semeria si trovò di fronte alla prima paurosa esperienza di quelli che morivano nell'inevitabile crudeltà del conflitto tra popolo e popolo tra uomo e uomo comprese che cosa voglia dire sangue e sentire i percuotersi nella morte le sue stesse parole altisonanti di incitamento ne provò l'angoscia smarrita di aver tradito la sua vocazione sacerdotale di aver ingannato con la parola la sua fede più vera il comandamento della carità ed aggiunge era il dramma religioso dell'interventismo che si compiva in lui e che tormenterà molte altre coscienze di sacerdoti ad altissimo livello ecco nel campo dell'interventismo cattolico erano presenti però anche altre posizioni estranee a questa visione democratica della guerra posizioni che si richiamano una sorta di vera e propria conciliazione tra cattolicesimo patriottismo e nazionalismo una linea perorata da personalità come Agostino Gemelli che si muoveva nella prospettiva di una riconquista cattolica della società italiana entro la struttura dello Stato Nazione e alla base di questo atteggiamento troviamo ribadita una tesi che è ricorrente in campo cattolico e che mirava a realizzare una sintesi in grado di costruire una nuova identità nazionale sulla base della cattolicità interpretata come unica autentica espressione di italianità ecco assumono rilievo poi in campo cattolico anche altri atteggiamenti diversamente motivati penso ad un Filippo Meda che partendo da posizioni neutraliste incondizionate mutò il suo orientamento all'indomani dell'aggressione tedesca ad un paese neutrale come il Belgio giungendo alla conclusione che di fronte ad una così evidente violazione del diritto internazionale non si poteva restare spettatori indifferenti dal suo canto Luigi Sturzo che sarà poi personaggio di primo piano nella vita politica nazionale del dopoguerra intui il peso traumatico e dirompente di un avvenimento che era capace di provocare profondi e radicali trasformazioni in Europa e in Italia e che in qualche modo poteva abbattere il vecchio edificio costruito sulle fondamenta delle rivoluzioni borghesi gestite dal liberalismo massonico e anticlericale e le conseguenze della guerra dovevano portare ad una sorta di rivoluzione democratica che avrebbe consentito alle masse popolari di far sentire il loro peso nella direzione della cosa pubblica ecco Sturzo era in quel momento anche il segretario della giunta centrale dell'azione cattolica che aveva il delicato compito di indicare la posizione ufficiale dei cattolici di fronte al conflitto una posizione che in qualche modo può essere riassunta nella formula della neutralità condizionata indicata dal conte Dallatorre presidente della giunta in un discorso del 5 gennaio del 15 secondo Dallatorre il neutralismo di principio dei cattolici appariva condizionato alla integrità di quelle supreme ragioni di giustizia in ordine al diritto della nostra sicurezza e del nostro sviluppo nel mondo in altre parole precisò che l'orientamento di principio contrario alla guerra veniva sfumato dall'esigenza di rispondere al senso del dovere e della responsabilità di fronte agli interessi del proprio paese in tal modo l'azione cattolica potremmo dire che si pone come punto di mediazione nel complesso e variegato quadro del mondo cattolico è una posizione che consentiva ai cattolici di ribadire gli ideali del pacifismo cristiano in sintonia con le posizioni del pontefice e con i suoi appelli alla pace senza isolarsi in un atteggiamento agnostico nei confronti degli interessi nazionali dei sentimenti patriottici del senso del dovere e della responsabilità verso il proprio paese impegnato in guerra tuttavia al momento dell'entrata in guerra dell'Italia non mancò potremmo dire qualche caduta di tono e di equilibrio da parte dei vertici dell'azione cattolica che provocarono una sorta di conflitto con lo stesso pontefice la giunta direttiva dell'azione cattolica giudicò opportuno redigere una mozione nella quale si faceva voti che l'Italia raggiungesse i suoi naturali confini ottenendo gli scopi per i quali combatteva e si auspicava una nuova conformazione politica dell'Europa ispirata alla giusta valutazione dei diritti delle aspirazioni nazionali e i principi del cristianesimo ecco la bozza di questa mozione venne inviata al Papa per l'approvazione tuttavia quando Benedetto XV lesse questo documento vi fu una dura reazione un fermo rifiuto c'è un'annotazione dello stesso pontefice ai margini di questo documento dove possiamo leggere proibisco di pubblicare qualsiasi verbale o relazione dell'ultima adunanza della giunta direttiva dell'azione cattolica in Italia una seconda annotazione ancora più dura potremmo dire era a margine di un telegramma inviato dall'Unione Popolare al generale Cadorna e in questo telegramma si elevava grato l'animo a Dio che aveva concesso al valore dell'esercito e al senno dei capitani un pegno prezioso di immancabile vittoria finale e di pace giusta e gloriosa anche qui troviamo un'annotazione di Benedetto X V si biasimi vivamente l'autore di questo telegramma e se ne proibisca la pubblicazione ecco quindi il pontefice non sembra condividere quindi questo equilibrio assunto dai vertici dell'associazionismo cattolico in Italia che tendeva in qualche modo a contemperare i valori della pace con le esigenze della guerra italiana e non piacque al Papa quel richiamo ai diritti e alle ispirazioni nazionali come giustificazione dell'intervento italiano in guerra nella sostanza potremmo dire che in questo momento sembra quasi crearsi una sorta di dicotomia tra la posizione pacifista del pontefice e quella dell'azione cattolica ecco siccome il dottor Donat Katten ci sollecita la brevità degli interventi io mi riprometto poi nel testo definitivo di ampliare e sviluppare questi questi temi e concludendo posso dire che nella sostanza siamo di fronte siamo di fronte alla complessità del mondo cattolico caratterizzato da una serie di organizzazioni associazioni ambienti culturali movimenti sociali uomini e personalità portatori di prospettive politiche e sociali e di interessi diversi è una fitta rete di organismi di correnti che si muovono all'interno di una realtà ecclesiale che da un lato si ispira alle linee dettate dalla chiesa romana ma dall'altro riproduce anche posizioni e giudizi che riflettono orientamenti personali e potremmo dire posizioni presenti nel dibattito politico di quelle di quei mesi così così tormentati e tutto questo evidenzia una varietà di posizioni che sono in realtà anche il riflesso della complessa e articolata fisionomia della società italiana grazie io ringrazio il professor Malgeri come già l'intervento di Traniello sono interventi di alto profilo che noi abbiamo chiesto di ridurre al minimo non per non tediarvi ma per impegni istituzionali che abbiamo preso e purtroppo l'allontanamento dalla Pinotti ha creato qualche piccolo problema detto questo Malgeri Traniello come gli altri professori ci daranno sicuramente poi un contributo scritto che pubblicheremo e che si potranno apprezzare io chiederei a Gariglio di dare la precedenza a Cravarezza perché Gariglio il professor Gariglio dell'università di Torino vorrei che concludesse i lavori e darei prima la parola al generale Cravarezza ex comandante della regione nord-ovest per cui ci parla del contributo torinese alla grande guerra mentre Gariglio il professor Gariglio sta guidando la nostra ricerca pluriennale che porterà alla luce proprio attraverso i giornali e le pubblicazioni il contrasto e il confronto nel mondo cattolico piemontese sull'interventismo e neutralismo e a lui anche chiudere a nome della fondazione questo importante convegno grazie la parola al generale Cravarezza mi ero già preparato a parlare e a dare il saluto finale a nome del ministro ma mi adatterò a questa grazie comunque alla fondazione che mi ha dato questa bellissima possibilità di essere qua con voi anche se un po' più intimi di quanto eravamo all'inizio per parlare di un argomento che è diventato una sfida quindi ringrazio davvero la fondazione anzi la invito a reinvitarmi fra tre anni perché proprio a merito loro ho iniziato uno studio che vorrei proprio approfondire visto che ci sono moltissime cose già scritte ma moltissime altre se ne possono scrivere e mi piacerebbe proprio che ci potesse essere qui non funziona ma si deve accendere è andato avanti ah benissimo eccolo ha bisogno tutti hanno bisogno del loro tempo e ecco allora questo coinvolgimento militare del Piemonte ha sicuramente bisogno di approfondimenti questa mattina ve ne faccio un cenno per quello che ho già potuto approfondire per quello che già è scritto in moltissimi libri e da moltissimi autori però sicuramente non è ancora sistematizzato e questo potrebbe essere davvero una sfida ho già contattato degli storici e vedremo di fare un qualcosa che poi magari potremo condividere la prima maniera mondiale l'hanno già detto tutti è stato un salto enorme stiamo parlando da parte militare io parlo da parte militare di quella che è stata la strategia il modo di operare la stessa tattica ha coinvolto tutta l'Europa e giustamente non tutto il mondo non è mondiale ma sono arrivate anche gli americani noi stessi siamo andati in parecchie parti dell'Europa a combattere e sicuramente era molto diversa da quella che è stata la guerra precedente ecco qui ho messo la battaglia di Waterloo ma pensate la battaglia di Waterloo che è stata una delle battaglie storiche più importanti e di cui si parla e si continua a scrivere erano 200.000 soldati che si affrontavano ed erano in un'area che si poteva vedere a vista perché i comandanti dovevano spostare le unità guardando sapendo dove erano e prendendo contatto con loro quindi una rivoluzione completa di quella che è stata la guerra di milioni di persone in fronti amplissimi e con naturalmente diversa capacità di collegamento di collaborazione di sinergie e soprattutto è stata una guerra veramente crudelissima a differenza delle altre che c'era anche una specie un po' di far play tra i soldati e il modo di combattere una guerra che ha visto la sofferenza dei soldati in una maniera incredibile aumentata veramente all'ennesima potenza e poi come è già stato detto ma l'accenno solo velocissimo perché non è questo il tema ha visto intervenire moltiplici strumenti diversi che ancora non si conoscevano che hanno cambiato proprio completamente l'andamento della guerra e anche il processo industriale collettivo e il sacrificio degli uomini quindi solo per per capire quello che è successo queste piccole immagini servono a capire allora i bombardamenti si facevano così si buttava giù la bomba dall'aereo con la mano perché l'aereo era fatto di tela non aveva nessun strumento per colpire e altro comunque tanto così per avere un'idea di quella allora le forze contrapposte qui sono indicate in maniera abbastanza visiva voi vedete che noi avevamo ben 35 divisioni di fanteria una di bersaglieri e quattro di cavalleria all'inizio della guerra quindi 40 divisioni e che erano la metà di quelle che poi abbiamo avuto nella seconda guerra mondiale circa e combattevamo al nostro fronte contro circa la metà delle forze austriache altrettanto la regia marina e allora c'era solo esercito e regia marina e guardia di finanza erano perché i carabinieri erano all'interno dell'esercito l'aeronautica era all'interno dell'esercito le forze aeree e quindi anche le forze aeree vedete 70 aeroplani quando abbiamo iniziato la guerra contro i 90 austriaci 5 a 1 i dirigibili insomma quindi dei numeri che cominciavano già a dare l'impressione di quello che sarebbe stato ma ancora non era naturalmente l'impegno del Piemonte che adesso qui cerco di entrare più nello specifico è stato prima di tutto materiale e prima di impiego degli uomini venne creata proprio prima una un sottosegretariato di mobilitazione industriale che poi divenne anche ministero e questo gestiva all'interno dell'Italia ben 1976 siti industriali gran parte anche di personale era militare e la concentrazione era assieme al Piemonte in Lombardia in Liguria e anche un po' nel meridione non tantissimo e in questi nel 18 ecco gli impianti controllati dal ministero da questo ministero di mobilitazione industriale ecco aveva questa diffusione sul territorio questo è già il 75% in queste città di tutto quello che era lo sviluppo industriale di concorso alla guerra in quel periodo e vedete come Torino si piazza al secondo posto e molto molto vicino a un quarto circa di quello che è tutto il prodotto industriale e la produzione degli armamenti qui adesso è un'illustrazione proprio così molto rapida ma che dà l'indicazione di come si è sviluppato all'inizio le mitraia di all'inizio del conflitto erano circa 500 ecco nel giro di pochi anni arrivarono a moltiplicarsi c'è la caduta di Caporetto che sicuramente ha significato un momento di crisi che è durato per parecchi mesi dell'Italia e qui naturalmente Torino con la Fiat di armi e munizioni ne produsse moltissime e ho messo una è una delle nostre prime mitragliatrici a raffreddamento ad acqua la Fiat Revelli stesso discorso vale per l'artiglieria voi sapete che l'artiglieria in gran parte è nata a Torino come artiglieria moderna la balistica moderna basta parlare del generale Cavalli del museo d'artiglieria che abbiamo il più bel museo d'artiglieria d'Europa ecco allora già avevamo un buon parco di mezzi però anche questo crebbe in maniera notevolissima e naturalmente Torino in questo processo fu molto importante basta guardare l'arsenale Borgodora che allora era nel pieno della sua attività quella era la produzione che fece nel 15-18 quindi un impulso notevolissimo alla capacità industriale di Torino altrettanto l'aeronautica che allora era aviazione dell'esercito si chiamava e che io amo ma penso che sia così ormai accettato da tutti pensare che è nata qua a Torino il primo volo tutto italiano di un mezzo italiano di un pilota italiano avvenne proprio all'Avenaria sul campo dell'Avenaria e fu provato due volte perché la prima durò appena pochi centinaia di metri poi cadde senza farsi troppo male per fortuna ecco però anche l'aviazione dell'esercito ebbe uno sviluppo notevolissimo in quel periodo invece adesso ecco il centro su cui mi sono concentrato un po' di più è proprio il settore dei combattenti era questo il tema che mi era stato dato c'è quello che è stato il contributo del personale allora unità combattenti e personale singolo andiamo a vedere alcuni dati di questi in particolare del settore prima di tutto ci sono ormai moltissime pubblicazioni che trattano delle unità e sono state fatte dall'esercito subito alla fine della guerra quindi con i dati proprio trovati negli archivi storici militari basta citarvene qualcuno questo parla delle grandi unità le altre parla di tutte le operazioni di queste grandi unità quindi ormai c'è un grande fondo in questo settore e anche la biblioteca nazionale universitaria a cui sto collaborando ha un fondo Piero Pieri che proprio in questi tre anni che è il più grande storico tra l'altro che abbiamo almeno qua nel Tornese ma sicuramente come parte militare storica è veramente importante approfondiremo ancora le unità combattenti però mi hanno messo di fronte a un dubbio che condivido che è difficilissimo e sarà uno dei temi che affronterò appunto nel futuro per approfondire perché qui ho messo un libro del 25 quindi subito dopo la guerra con l'82esimo Fanteria sul Piave l'82esimo è della brigata Torino quindi uno pensa sarà fatta piena di piemontesi al 99% non c'era un piemontese dentro perché basta calcolare la brigata Torino allora aveva sede a Roma quindi si chiamava Torino ma era a Roma e nei suoi reclutamenti non prendeva da nessun distretto del Piemonte se voi li vedete Castrovillare Catania Milano Mondovì Novara vabbè c'è Mondovì e Novara Padova Siena Siracusa e Venezia ecco quindi perché allora diceva questo dovevamo fare l'Italia quindi i militari si incrociavano dal nord al sud in maniera tale che si diffondesse la conoscenza dell'Italia la conoscenza reciproca tra le persone e un modo anche di fare c'erano anche dei problemi seri nel senso che non si voleva che un militare in Piemonte dovesse magari intervenire in un momento difficile contro dei piemontesi quindi era meglio che fosse da un'altra parte se doveva intervenire a tenere lo Stato e tutto e questo vale per tutte le brigate brigata Piemonte sarà piena di premontesi beh altrettanto questa Aquila Cagliari Catania Firenze Lecce Livorno Mantua Messina Spoleto e Vicenza cioè i distretti di reclutamento non ce n'era uno piemontese e questo vale un po' per tutto invece la brigata Basilicata era a Torino ed era nella caserma Montegrappa va bene naturalmente non prendeva piemontesi però era a Torino aveva stanza a Torino la brigata Montegrappa fu prima sede dei bersaglieri e subito dopo di questa brigata di fanteria invece cominciamo a vedere Torino per esempio nella brigata Ancona o nella brigata Friuli nella brigata Venezia adesso non le ho messe tutte ma ce ne sono molte invece dove i reparti avevano nomi piemontesi e uomini piemontesi non poteva chiestere con gli alpini perché era a reclutamento nacquero nel 1872 l'Italia era già costita dovevano difendere i confini e pertanto per loro venne fatto un'eccezione nel reclutamento cioè avevano reclutamento locale va bene allora le unità combattenti alpine erano le uniche che avevano i nomi che corrispondevano alla località dove poi prendevano anche il personale beh allora solo per guardare così come è iniziata la guerra con gli alpini i riparti di alpini dei 26 battaglioni monte a cui corrispondevano altrettanti 26 battaglioni valle cioè che nascevano alcuni con nome di località di montagna altre di pianura della valle la metà la metà erano piemontesi quindi su tutto l'arco alpino il Piemonte faceva la parte più grossa adesso così ve li cito velocemente senza approfondire nel loro livello però c'erano quattro reggimenti che erano in Piemonte il primo e voi vedete aveva i nomi sopra sono dei battaglioni Piemonte Pieve di Teco Ceva e Mondovì i sotto hanno sempre preceduti da valle sono i battaglioni che vengono costituiti solo in caso di esigenza per integrare la mobilitazione quindi vennero costituiti per la guerra altrettanto vale per il secondo reggimento Borgo San Dalmazzo Dronero e Saluzzo e aveva naturalmente rispondevano le valli lì vicine il terzo era quello di Torino il terzo reggimento alpini è nato a Torino e ha le tradizioni proprio di Torino e adesso i suoi reggimenti sono sparsi ma ha la sua tradizione nella taurinense Pinerolo Fenestrella Exil e Susa erano quattro è l'unico reggimento che aveva quattro battaglioni monte e quattro battaglioni valle Pellice Valchisone Valdore Valcenischia e l'ultimo è il quarto reggimento che è stato anche uno degli ultimi a sciogliersi qua in Piemonte e voi vedete Ivrea Osta Entra e Valdorco Val Valtea quindi sono gli unici che vanno in guerra con uomini piemontesi con uomini piemontesi e combattono insieme le prime battaglie e la conquista di Montenero che è diventata poi una leggenda e tra l'altro è la prima volta è la prima guerra che si fa realmente in montagna quindi con delle tecniche delle capacità e degli impegni e dei sacrifici enormi chi di voi vuole andare oggi a vedere la gruviera che è diventata la marmolada e tutte le aree del Friuli dove gli alpini assieme agli austriaci e questa è stata una bella collaborazione hanno ripristinato tutti i passaggi montani che hanno usato i militari e li hanno uniti insieme attraverso dei collegamenti che è bellissimo andare a vedere quindi vi invito ad andare allora quindi se abbiamo visto le unità combattenti in cui c'è moltissima difficoltà e questo sarà lo studio più approfondito dovremmo fare per capire quanti piemontesi e dove furono impegnati a combattere e tra l'altro lo stiamo facendo anche già col consiglio regionale che in questo senso mi ha dato un mandato guardiamo adesso il personale che anche questo porta avanti devo dire delle cose interessantissime qui devo ringraziare la scuola di applicazione Dharma che ha una biblioteca che probabilmente è poco conosciuta qua a Torino ma merita di essere vista quindi chi di voi ha delle curiosità su cose militari vada a chiedere di poterla vedere al di là che è bellissima storicamente e ha dei libri però ha tutto del militare allora ho trovato questo libro che è unico la forza dell'esercito è fatto nel 27 il primo libro statistico che parla di tutti i soldati che hanno fatto la prima guerra mondiale allora prima di tutto dice che sono stati mobilitati 5 milioni e 38 mila 809 l'Italia settentrionale di questi 5 milioni ne ha dato la metà 2 milioni e 500 circa quindi vedete in rapporto agli altri era sicuramente più popolata però questo è il contributo dell'Italia settentrionale in numero di uomini e in questo numero di uomini guardando solo il settentrione voi vedete che il Piemonte dà una buona percentuale devo dire che è il quarto di qui di 5 però è comunque un impegno legato alla popolazione locale e anche perché moltissimi militari vennero esentati dal militare per lavorare nelle industrie quindi erano comunque al servizio ma non rivestivano la divisa militare e naturalmente le zone più industriali più avevano bisogno di questa presenza adesso andando ancora più nel dettaglio allora pensate adesso abbiamo un unico distretto in tutto il Piemonte allora i distretti erano ben nove ecco qui è la suddivisione del reclutamento piemontese che poi non stavano come abbiamo visto andavano a finire nelle unità che non erano in Piemonte però voi vedete Torino allora non faceva ancora la parte del leone che fa adesso voi vedete che in pratica compete non dico alla pari ma comunque abbastanza con le altre province del Piemonte comunque Torino naturalmente non poteva che essere quella che ha dato più personale ecco e qui vi racconto un particolare che ho visto e che mi ha colpito moltissimo è un po' difficile da interpretare ma se guardate i colori famiglie particolarmente coinvolte partiamo da un minimo di quattro membri della stessa famiglia in guerra arriviamo ad un massimo di dieci membri della stessa famiglia in guerra contemporaneamente i numeri gialli sono i piemontesi i numeri bianchi sono a livello nazionale beh voi vedete che il Piemonte ha dato il dieci per cento in questo settore qua di presenza di famiglie numerose che contemporaneamente erano in guerra questo è un dato che viene fuori da questa statistica e che colpisce come si è amplificato il numero delle persone in guerra su cinque milioni possiamo calcolare che venti milioni di persone in pratica hanno vissuto sulla loro pelle o nelle loro famiglie la guerra su trentun milioni che era l'Italia quindi pensate i due terzi dell'Italia è stata in guerra fisicamente quasi perché aveva il parente o il figlio o il papà e quindi in questo senso e come vedete adesso di famiglie con dieci membri ce ne erano solo tre però guardate trentamila famiglie in Italia avevano almeno quattro membri undecimila quindi insomma sono numeri che fanno pensare al di là della prolificità che c'era allora rispetto ad oggi ma poi del sacrificio che hanno fatto queste famiglie e qui per guardare a noi andando più nel dettaglio adesso questi li ho messi solo così per dare un'idea però un po' tutti avevano queste presenze e non tutti anzi nessuno arriva a dieci però qualcuno arriva a nove membri e l'unica è Alessandria che arriva a una famiglia con nove persone e gli altri e comunque arrivano anche a otto elementi vedete anche Torino in questo campo non è superiore alle altre forse meno degli altri poi sono andato a vedere i caduti ecco lì per andare a vedere i caduti ci sono decine di libri e spessi circa 5 centimetri l'uno che parlano di ciascuna provincia dei caduti di ciascuna provincia si chiamano l'albodoro perché all'interno dei caduti mettono tutti i nomi dei caduti la famiglia eccetera e mettono anche le decorazioni che queste hanno avuto allora adesso questo è proprio la fotografia del libro che guarda il Piemonte e in particolare quella di Torino e adesso ecco tanto per vedere non ho messo tutte le province tanto solo per fare un paragone però dei caduti che sono quelli alla vostra sinistra e dei decorati ecco lì ci sono i numeri allora nella provincia di Alessandria e Cuneo insieme 24.000 Torino da solo 14.000 caduti provincia di Torino non Torino centro e anche una notevole presenza di decorati medaglie d'oro medaglie d'argento medaglie di bronzo non le sto a citare perché non è il momento ma tanto per darvi delle immagini che fanno pensare al sacrificio e alla capacità che ha avuto quella generazione che dobbiamo ammirare ecco per questo senso dello Stato che aveva e voi sapete che è in atto un censimento di tutti i monumenti che ricordano quei caduti ogni paese in Italia ha un monumento e forse il primo benvenuto in qualunque paese noi andiamo è proprio il monumento ai caduti ha fatto sentire a tutta l'Italia assieme al milite ignoto questa partecipazione a uno sforzo collettivo però ci dobbiamo chiedere io ho visto il censimento che è appena uscito dal ministero dei beni pubblici che l'han fatto loro Torino non c'è Torino non ha un monumento dedicato espressamente ai caduti io ho già scritto a nome dell'associazione al sindaco ho già scritto al prefetto perché dobbiamo assolutamente dedicare un monumento ai nostri caduti della prima guerra mondiale perché ci sono tanti punti effettivamente a Torino che li ricordano ecco un altro punto che magari pensiamo che non potesse neanche essere possibile ma sotto se andate alla prefettura prima di entrare in prefettura c'è questo lapide che ricorda gli immigrati questo latinoamericani ed è stata messa nel 1925 ci sono nostri connazionali che erano nelle Americhe che sono rientrati per la guerra e tra l'altro ecco vi consiglio di andare perché adesso qui si vede poco ma qui il dito di Colombo è molto più pulito di tutto il resto perché tutti quelli che passano lo toccano porta bene dicono Colombo ha fatto grandi cose e quindi ecco se vi capita di passare da quelle parti passate anche voi vanno soprattutto gli studenti prima degli esami non so se aiuta ma ecco e tanto per avere un'idea di questo pensate questi sono i numeri dei rimpatriati italiani giovani che erano all'estero e che sono tornati per la grande guerra dai paesi d'Europa 128.000 dalle Americhe 155.000 poi ci sono da altri paesi che non ho messo dall'Africa tutto il resto però tanto per darvi un'idea di numeri e di quel che era il senso dello Stato che non era da poco e poi oltre allora a questo monumento che ricorda gli emigrati nel 25 venne fatto il parco della rimembranza ecco vi consiglio anche di andare al Colle della Maddalena che è bellissimo tra l'altro si passa una bella giornata al fresco lì 4.900 alberi sono dedicati ciascuno a un caduto torinese alcuni sono ripetuti perché le medaglie d'oro ne hanno due di alberi hanno meritato un po' di più però questi sono gli alberi tra l'altro un bellissimo parco anche dal punto di vista paesaggistico da camminata e tutti gli anni viene commemorato il 3 di novembre dagli alpini che fanno una bellissima cerimonia però andate è anche curioso andare a vedere e tra l'altro tenere bene quei posti sopra c'è il faro della vittoria che l'hanno appena ristrutturato che è stato fatto nel 28 proprio per ricordare la grande guerra e la vittoria che allora avevamo poi il punto invece dove ci sono veramente i resti dei caduti della prima guerra mondiale è il sacrario della gran madre di Dio cioè sotto alla gran madre di Dio nel 1932 è stato inaugurato questo sacrario che è aperto poche volte all'anno però se chiedete potete andarlo a visitare le chiavi ce l'ha il comando regione militare nord che è il gestore per onor caduti di quel sacrario e con lì sono conservati proprio i resti di 3851 caduti torinesi è un altro punto della memoria ed è uno dei punti potrebbe essere anche questo il monumento ai caduti che vogliamo però devo dire la verità che noi abbiamo proposte e vorremmo molto che potesse essere questo perché è più di dominio pubblico e forse magari si cesserebbe di vedere i ragazzi che ci vanno in skateboard sopra o che ci mangiano colazioni ed altre cose che veramente per me tutte le volte che ci passo fa veramente male perché è un monumento che chi lo va a vedere da vicino è una trincea della prima guerra mondiale cioè il basamento e probabilmente nessuno se ne accorge ma ha tutte le feritoie di una trincea della prima guerra mondiale sopra a questa ci sono dei pili dei piloni circondati da quattro militari sono i quattro militari cioè sono otto militari in tutto che ricordano ognuno una classe di militare voi vedete qua davanti questo è chiamato il soldato studente perché lo vedete che è un po' trasandato negligente però ha fatto il suo dovere anche lui cioè era solo un vestito un modo di comportarsi ma quanti sono morti di quei giovani e adesso ve li faccio passare solo velocemente ma solo così perché li possiate vedere questo qui è il soldato cittadino lo vedete tutto ben composto ben ordinato al suo posto perché conosce la vita e sa quel che è poi alla vostra sinistra c'è l'ardito ha già la maschera pronta è pronta a partire guarda verso lontano sa tutto al centro e a destra ci sono le due scolte c'è quella giovane tutta impettita lì perché ha paura delle ispezioni e c'è quella ormai scafata come si dice che si riguarda dal freddo che era la cosa principale poi c'è il bersagliere a sinistra lo vedete anche lui scattantissimo ha già un fucile in mano l'altra mano sulla baionetta guarda anche lui lontano pronto a partire all'ordine al centro c'è quello che io amo di più che è quello che è chiamato il soldato contadino perché lo vedete dall'aspetto proprio posato lo sguardo sembra perfino abbronzato anche se sono tutti dello stesso colore però a quella mano sul tascapane dove teneva le bombe lui sta prendendo una bomba nella realtà ma sembra che invece prenda i semi per seminare guardatelo l'atteggiamento di chi ha davanti il suo lavoro da portare avanti e poi c'è l'alpino che non posso che apprezzare ma guardatelo ad astra ad astra arrivare alle stelle attraverso le asperità ha due mani che sono sproporzionate rispetto a tutto il corpo non ha armi in mano ha due mani a lui bastano le mani per dimostrare le sue capacità homo faber fortune sue e poi guardo con lo sguardo che guarda le montagne le cime allora sono veramente dei simboli importantissimi ecco allora io vorrei che nel 2017 dove scadono gli 80 anni della costruzione di questo monumento dell'inaugurazione di questo monumento possa diventare davvero il simbolo nostro dei caduti cambiando magari nome o aggiungendogli un nome questo non è importante importante che possa diventare un punto di riferimento per tutti quelli che pensano alla loro storia come un valore da portare avanti con rispetto e allora per questo ringrazio l'opportunità che mi è stata data in questa occasione ringrazio voi soprattutto e dedicherei questo applauso ai nostri caduti di allora ma come torinesi siamo grati al generale perché ci ha fatto scoprire delle cose che non conoscevamo e rivivere dei monumenti che passiamo davanti a questi monumenti senza accorgerci e quindi ci ha dato una lezione non solo di storia ma una lezione di capire dove viviamo e con quali monumenti dobbiamo confrontarci e valorizzare do la parola e raccolgo l'appello del generale di lavorare insieme per 17 e 18 per fare un altro passo avanti do la parola al professor Gariglio che ci parlerà di nuovo di Torino e dei problemi all'interno del mondo cattolico fra interventisti e neutralisti alla vigilia del 24 maggio grazie professore prego desidero salutare tutti tutte le autorità civili militari presenti le signore i signori i giovani che hanno partecipato ai lavori di questa giornata desidero innanzitutto presentare i protagonisti che entreranno in gioco nel mio intervento Torino ha un arcivescovo che rimarrà in città per lungo tempo in diocese per lungo tempo Agostino Richelmi di tendenze moderate e tra i promotori del quotidiano clerico moderato il momento che diventa il principale giornale del Piemonte di tendenze cattoliche e che si contrappone al preesistente giornale intransigente l'Italia Reale Corriere Nazionale poi ha un grande a notevole rilievo un settimanale la voce dell'operaio che nasce negli ambienti del Murialdo quindi un santo sociale sensibile alle questioni sociali operaie in maniera particolare e espressione dell'unione operaia cattolica i cristiani sociali piemontesi torinesi danno vita all'inizio del secolo alle unioni professionali e nel 1906 creano la Lega del Lavoro che è un organo di coordinamento dell'attività sindacale dei cattolici torinesi e piemontesi a sinistra di questi cristiano sociali e collegate a loro è il gruppo della Lega Democratica Muriano nazionale di cui ha già parlato il professor Maggeri che a Torino è guidato da Mario Tortonese e pubblica il periodico del movimento e poi c'è il cenacolo tovianista tovianista di Attilio Besey che è espressione di posizioni religiose e culturali molto interessanti tuttavia si può dire che alla vigilia del primo conflitto mondiale il tono politico del cattolicesimo torinese è dato soprattutto dalle correnti clerico moderate il clerico moderatismo torinese dopo la guerra di Libia anche a Torino progressivamente slitta verso le tendenze clerico nazionaliste tra l'altro il 28 giugno 1914 il giorno stesso dell'attentato a Sarajevo a breve distanza della settimana rossa i cattolici danno un contributo importante all'elezione nel quarto collegio della Camera del nazionalista Giuseppe Bevione che era giornalista della stampa ma questo tipo di alleanza sembra entrare in crisi rapidamente un mese dopo in occasione dell'ultimatum dell'Austria alla Serbia e dello scoppio in ambito europeo naturalmente del primo conflitto mondiale i cattolici del capoluogo piemontese si schierano nettamente all'interno dell'orientamento neutralista con una sensibilità più marcata sempre nel mondo cattolico per questo orientamento da parte delle masse popolari è stata per esempio osservata una differenza tra le pagine nazionali del momento che riflettono le posizioni del trust dell'alleanza che si era costituito tra vari giornali le maggiori giornali cattolico moderate italiane e le pagine tra le pagine nazionali e le pagine locali in cui il giornale il momento riflette posizioni neutraliste assai più accentuate in qualche misura vicine a quelle che vedremo essere quelle della voce dell'operaio tuttavia in questo periodo nella fase della neutralità i giornali del trust e anche il momento assumono posizioni neutraliste chiare chiare riflette in quanto troppo troppo nette ed esplicite erano state le posizioni le prese di posizioni di Pio X e poi di Benedetto XV e recente relativamente recente era stata l'avvertenza della Santa Sede che aveva dichiarato che si era pronunciato contro le posizioni assunte da questi giornali in occasione della guerra di Libia quindi diciamo che anche questi giornali che sono più sensibili alle posizioni del governo tendono a mantenere una posizione moderata come la voce dicevo che le posizioni torinesi invece del momento sono più accentuatamente e direi sinceramente sinceramente neutraliste e in questo senso non si differenziano molto da quelle del settimanale la voce dell'operaio che era espressione degli ambienti dell'Unione Operaia cattolica e che si rivolgeva ad un pubblico popolare composto da artigiani da lavoratori di fabbrica cattolici soprattutto tessili e donne i contadini dell'area periferiche della città e della provincia e naturalmente ai militanti cattolici e al clero la la voce si mantiene su posizioni nettamente neutraliste fino all'ingresso dell'Italia in guerra queste trovarono queste posizioni il loro riferimento più che nelle ragioni politiche in motivazioni sociali le classi subalterne hanno tutto da perdere dal conflitto e Malgeri si è già soffermato su queste posizioni professor Malgeri e il riferimento al messaggio pontificio continuamente ripreso ed esaltato in effetti a livello di base forti erano a livello cattolico le tendenze alla neutralità ancora a metà novembre secondo una segnalazione del prefetto i cattolici favorevoli all'intervento erano pochissimi pochissimi lo stesso Filippo Crispolti che pure recherà un contributo decisivo al progressivo avvicinamento del momento degli altri quotidiani del Trust è un romano che si è stabilito in Piemonte ma che svolge una ampia politica nazionale ecco gli altri giornali del Trust alle posizioni del governo Salandra insomma nell'ottobre del 1914 dimostrò un certo interesse per un tentativo avviato da padre Giovanni Semeria e da Don Brissio Caciola di promuovere una lega dei neutri ne scrisse tra l'altro positivamente al governo e alla segretaria di Stato Vaticano e si dichiarò disponibile a partecipare a eventuali manifestazioni pubbliche in favore di questa lega i cattolici lo ha già accennato il professor Margieri anche a Torino non mostrano nessuna compiacenza verso le manifestazioni degli interventisti dei neutrali e dei nazionalisti ma tendono esprimono pure la loro ostilità nei confronti delle manifestazioni dei socialisti e questo è un fatto molto significativo che avrà esiti nel dopoguerra i cattolici che sono neutralisti i socialisti che sono neutralisti non riescono a trovare un terreno di mediazione di intesa su questo terreno su questo terreno quindi la differenza significativa tra questi due movimenti di massa tuttavia non tutti i cattolici si mantengono su posizioni neutraliste per esempio due figure autorevoli come Giovanni Maschio consigliere comunale futuro leader del centro del partito popolare e il marchese Amedeo di Rovasenda che era già stato presidente del consiglio regionale della gioventù cattolica piemontese sotto cui il cui mandato era stato fondato il periodico della il giovane Piemonte e aveva dato vita alla federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane che hanno dimensione nazionale assumono ecco già nel gennaio del 1915 questi due personaggi aderiscono al comitato per la preparazione costituito dagli ambienti dell'economia torinese del resto salvo casi rarissimi il neutralismo cattolico come è già stato detto più volte non è assoluto c'è chi c'è chi il neutralismo del momento che tendeva a subordinare il proprio neutralismo agli interessi nazionali inoltre i cattolici nella loro grandissima maggioranza si sentivano vincolati all'obbedienza alle autorità legittimamente costituite e quindi era appariva prevedibile che qualora il governo avesse deciso dell'ingresso dell'Italia in guerra i cattolici avrebbero accettato la decisione e avrebbero compiuto in larghissima maggioranza il loro dovere di buoni cittadini e quindi man mano che si avvicina la guerra che si percepiva sarebbe stata avvenuta da parte dell'intesa il neutralismo dei gruppi dirigenti del mondo cattolico torinese più colti e avvertiti della situazione politica tendeva ad attenuarsi mentre permaneva più forte negli ambienti popolari naturalmente rinvio poi al testo scritto le citazioni in riferimento ai fatti e alle vicende in questo contesto quale fu l'atteggiamento dei sacerdoti la procura generale del re presso la corte d'appello incaricata di vigilare sull'azione politica del clero segnalava al ministero di grazia di giustizia circa il comportamento dei preti nel terzo quadrimestre del 14 come mi assicurano i procuratori del re nei loro rapporti testè inviatimi la condotta del clero in questo distretto non ha dato luogo a specifici rimarchi eppur manifestando tendenza a dominare la coscienza delle masse si è prevalentemente occupato di cosa attinente al culto e dimostrandosi riguardoso nei rapporti con lo Stato e le patrie istituzioni non furono usate siamo nel periodo dal settembre al dicembre del 14 non furono usate chiese per scopi estranei al culto tenuti congressi fatte pubbliche manifestazioni di partito le casse rurali e le banche di credito cooperative cattoliche non svolsero azione politica intransigente occupandosi delle loro operazioni senza troppa distinzione confessionale tra le persone loro ricorrenti come non ispirato ad intransigenza fu l'indirizzo educativo e didattico dei seminari quindi ecco riporto le varie relazioni sull'atteggiamento del clero non cambia molto la situazione nel quadrimestre successivo quando ci avviciniamo alla guerra nella relazione del secondo quadrimestre dell'anno quando l'Italia era ormai da più di tre mesi entrata in guerra si osserva che in complesso il clero tenne un contegno corretto partecipando in taluni luoghi volontaroso alle iniziative prese dai comitati a favore dei soldati e delle nostre famiglie i sacerdoti che furono denunciati per aver tenuto omelie in cui non favorevoli all'ingresso dell'Italia in guerra furono molto pochi e sottoposti a processo vennero tutti quanti successivamente assolti il cardinale Richelmi questa è la posizione del clero il cardinale sempre molto abile a muoversi sul piano religioso e politico nel Piemonte e nell'Italia del suo tempo nel periodo tra l'agosto e il maggio del 1915 interviene in cinque occasioni sul tema della guerra senza tuttavia mai inviare messaggi neutralisti chiari potremmo dire appartiene a quei vescovi che Malgeri ha definito moderati in occasione della morte di Pio X pregava genericamente per la pace in occasione delle elezioni di Benedetto XV il 22 e il 23 dicembre parlò di tremendo flagello inviato a punizione della società colpevole di corruzione e di divertimenti immorali peste della società su questi atteggiamenti dei vescovi italiani si è già soffermato il professor Malgeri e diciamo queste posizioni poi si ritrovano anche nella lettera per la quaresima del 1915 il fatto che il il cardinale Richelmi non prendesse posizione chiara dava naturalmente dà maggiore libertà di movimento e di espressione ai cattolici torinesi e come vedremo venne molto apprezzata dalle autorità nazionali dopo l'ingresso dell'Italia in guerra ecco Torino contrariamente alle altre città italiane come Roma e Milano non conobbe le radiose giornate di maggio che abbiamo accennato ebbe invece uno sciopero generale di protesta promosso dalla Camera del Lavoro che si svolse nei giorni 17 e 18 maggio e che fu uno sciopero duro questo sciopero trovò comprensione nelle pagine locali del momento la voce dell'operaio scrisse che i sinceri cattolici non erano scesi in piazza né per l'una né per l'altra fazione essi pur favorevoli in stragrande maggioranza alla neutralità erano tuttavia pronti ad ogni sacrificio per la patria quando il governo avesse deciso l'intervento del nostro paese nel terribile conflitto europeo era una linea come si è visto largamente diffusa salvo rarissime ma significative eccezioni che esamineremo rapidissimamente in così in ambito nazionale le autorità scoppiate la guerra le autorità non avrebbero avuto comunque occasione di lamentarsi dei cattolici scoppiato il conflitto il cardinale Richelmi si dedicò un'intensa attività caritativa sia verso i profughi dalla zona di combattimento sia verso i feriti nel primo ambito egli si fece promotore dell'opera diocesana per l'assistenza ai profughi che si preoccupava di reperire abitazioni spesso locali ecclesiastici cibo per i bisognosi ugualmente estesa fu l'assistenza ai soldati particolarmente ai feriti per i quali furono offerti locali appartenenti alla diocesi in arcivescovado poi venne istituito un ufficio di assistenza e di informazione per i soldati per i profughi per i prigionieri scrive Monsignor Vaudagnotti suo primo biografo una biografia semi ufficiale che Richelmi seppe armonizzare insieme nell'inviolabile schiettezza evangelica patriottismo e clemenza romanità cattolica e italica fedeltà vi riuscì a perfezione mediante la pietà con Dio e con gli uomini nel nome della carità che fonde e supera tutti i contrasti l'opera svolta dal cardinale di Torino non sfuggì alla presidenza del consiglio che già nel dicembre del 1915 a firma di Salandra invitava a Richelmi il seguente messaggio Eminenza il prefetto di Torino mi ha informato delle continue manifestazioni di carità e di patriottismo dell'eminenza vostra in questo eccezionale periodo di guerra apprezzando moltissimo questa sua opera nobile e generosa sono lieto di esprimere all'eminenza vostra il mio più vivo compiacimento con distinto servanza devotissimo a Salandra al termine del conflitto venne attribuita a Richelmi la suprema onoreficenza dei santi Maurizio e Lazaro la più elevata del regno ecco a una settimana di ingresso dall'Italia in guerra il Monsignor Angelo Bartolomasi che era il vescovo ausiliare di Richelmi venne nominato vescovo di campo nell'aprile del 1915 il generale Luigi Cadorna aveva promosso la costituzione di un ampio corpo di cappellani questi erano stati soppressi nell'esercito italiano tra il 1865 e il 1878 e riammessi durante la guerra di Libia ma in numero ridotto una ventina in tutto e con funzioni limitate all'assistenza ai feriti negli ospedali la scelta della santa sede della persona a cui affidare il delicato nuovo incarico di responsabile e coordinatore dell'opera dei cappellani e più in generale del servizio religioso nell'esercito cadde su un presule della diocesi piemontese il cui clero anche nei momenti più difficili aveva rivelato un filosabaudismo a tutta prova e i cui vertici ma anche i cui ordini religiosi e in generale le figure più rilevanti sul piano organizzativo erano avvezze ad avere buoni rapporti con l'aristocrazia da cui proveniva parte significativa degli alti gradi dell'esercito lo stesso comandante in capo Luigi Cadorna distendeva da una famiglia che sin dal risorgimento aveva dato uomini politici e militari che erano riusciti nel compito a volte difficile problematico di coniugare la fedeltà allo Stato e l'adesione alla religione cattolica durante la guerra poi Cadorna si circonda di figure religiose come padre Semmeria come lo stesso Agostino Gemelli ecco si è visto come il movimento cattolico avesse espresso nel periodo antecedente alla guerra posizioni neutraliste più marcate che altrove lo sottolineava anche lo sottolineava Luigi Caisotti di Chiusano che aveva maturato posizioni interventiste seguendo la tradizione della sua famiglia che dei tempi del risorgimento aveva assunto posizioni significative in ambito militare a servizio di Savoia eccetera eccetera Caisotti di Chiusano assume posizioni interventiste relativamente precoci e una lettera al Toniolo scriveva di sentirsi quasi straniero a Torino il passaggio di questa figura all'interventismo fu una perdita importante per il fronte neutralista cattolico perché era fra l'altro tra i fondatori e guidava la FAC la Federazione Agricola Cattorinese che era la più grande organizzazione cooperativa italiana vedo che Donat Catain si è avvicinato quindi vuol dire che il mio tempo si è drammaticamente concluso quindi accenno soltanto al tema che avrei affrontato nell'ultima parte della mia relazione dedicavo brevi pagine a un movimento che si caratterizza per un neutralismo assoluto e che riesce ad esprimerlo culturalmente è il movimento che fa capo al periodico il Savonarola che raccoglie una serie di figure di esponenti del che avevano fatto parte della Lega Democratica Nazionale qui queste figure contrariamente alle posizioni del movimento a livello nazionale riescono a dar vita dignità culturale a un neutralismo diciamo assoluto quindi in periodo di guerra il loro periodico esce fino a poco prima di Caporetto sono posizioni interessanti e che hanno pochi confronti a livello nazionale ecco adesso mi pare mi fosse stato affidato il compito di accennare rapidissimamente a una ricerca che la fondazione Donat-Caten intende avviare su tutto il Piemonte quindi non soltanto su Torino il mio intervento riguarda Torino e questa ricerca si articolerà su intende articolarsi su tutti tutto il periodo bellico quindi fino a Vittorio Veneto fino a Vittorio Veneto e riguardare il recupero di una serie di fondi archivistici di figure significative del neutralismo persino del pacifismo e anche figure dell'interventismo cattolico che si manifestò sia a livello torinese come ho detto sia a livello regionale questa ricerca intende inoltre analizzare la stampa delle varie diocesi piemontesi all'interno dell'intero periodo auspichiamo speriamo di trovare che ci siano i fondi necessari cosa non così scontata in questi bui periodi per la ricerca la ricerca la ricerca storica che verso cui insomma non fondi che un tempo giungevano seppure in maniera limitata adesso giungono sempre meno ecco concludendo questo convegno mi pare di poter dire di aver colto una straordinaria ricchezza di posizioni tra i relatori posizioni espresse sia in una dimensione politica e diciamo di prospettiva di di grande quadro sia diciamo sul piano internazionale nella ricerca di Francesco Traniello nella relazione di Francesco Traniello posizione molto attenta sia sui cattolici a livello nazionale tema studiatissimo ma in cui Malgeri ha saputo dire ancora cose nuove la ricerca storica non finisce mai non si conclude mai e Francesco Malgeri vi assicuro che oggi ci ha presentato non solo i punti più recenti della ricerca ma anche aspetti interessanti ricerche sul archivio segreto vaticano immagino che abbia preso lì la documentazione a cui ti riferivi io desidererei concludere soltanto con un riferimento con un auspicio per tutti noi nella relazione di Francesco di Francesco Traniello si è conclusa dicendo se ho ben inteso che l'Italia al termine della guerra e non ha bene consapevolezza delle sue posizioni e della realtà in cui si vive ecco io spero che questo nostro piccolo convegno questa nostra mezza giornata ci abbia resi più consapevoli anche con le presentazioni che sono avvenute del fenomeno della guerra e del contesto in cui avvene la guerra passata e in cui si propone il tema della difesa del paese della difesa della pace a livello internazionale nel nostro tempo ringrazio tutti chiedo scusa al professor Gariglio per aver stroncato la relazione ma per ragioni istituzionali legate anche alla nostra fanfara ringraziando tutti i presenti coraggiosi che sono rimasti fino alla fine e augurandoci di pubblicare al più presto gli atti che sono un contributo perché gli interventi di Tragnello di Malgeri del generale e di Gariglio sono certamente un contributo notevole alla storiografia invito la fanfara della taurinense a darci il saluto finale grazie a tutti 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 grazie maestro grazie alla brigata grazie alla fanfara saluti a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.